Cronachiste e cronachisti, buonasera, ben ritrovati, è lunedì e come ogni lunedì torna la fontana di Trevi, ce l'abbiamo fatta andare in onda, io sono Fernando Siani, ben ritrovato Riccardo Trevisani, ciao Ricchi. Ben ritrovato Fernando Siani. Come stai? Molto bene, molto bene, pronti, prontissimi, qui c'era un po' di casino, insomma, tutto risolto. Perché non riuscivamo a collegare i fili perché il 21-15, 21-14 che ha subito Andrea Gonzales là un attimo destabilizzato, nonostante, insomma, sia la normalità, però il proprio 2-0 tutto bene. Vero, vero, puntata omologata, abbiamo parlato di ping pong e chiunque si fosse collegato oggi pomeriggio su, anzi sul canale di Prime Video, ma eravamo ospiti qui, negli studi di Cronachiste, lì non lo vedete, ma lì c'è un divano. Giuseppe Pastore, ciao Giuseppe, gestiva, tutti gli ospiti super, clamorosi. Clarence Edrofe, Gigi Di Biagio, che hanno parlato a ruota libera in maniera stupefacente, per me che non ero abituato a sentire due calciatori di questo livello che si, ma proprio con una grande tranquillità, e hanno detto che il derby, eh non lo diciamo quanto finisce, cioè guardatevi la puntata per scoprire i loro pronostici. O guardatevi la partita. O guardatevi la partita, esatto. Guardatevi per scoprirlo ancora meglio in queste due ore. Esatto, c'era anche Sandro Piccinini che commenterà la partita su Prime Video e su TV8, perché sarà anche in chiaro la partita, la guarderà anche il miglior coordinatore, anche se oggi quasi, eh, ha rischiato di perderlo questo titolo, il miglior coordinatore di piattaforma di streaming in Italia, Andrea Gonzales. Ciao Andre. Ciao ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, numero uno. Le cose migliori arrivano lentamente, come le vittorie a ping pong, no? Quindi lentamente arriverà, piano piano, con calma arriverà. La domanda è, tu come la prenderesti se il conduttore della trasmissione dicesse, Sandro Piccinini che commenterà il derby, capito? Parliamo solo dell'andata, esatto. Che persona è l'andosiano? Vabbè, perché noi viviamo nel momento, poi la settimana prossima, la settimana prossima, Giuse, tu commenterai il derby. Ah no, Riccardo, Riccardo Trevisani commenterà il derby di ritorno, sei già carico, sei già emozionato? Sì, 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 è la verità sì, perché comunque è una partita che non capita spesso, è una partita di cui io ero appena, ero in procinto di venire su a Milano a vivere, ricordo abbastanza bene quello che poi Giuseppe ci ha raccontato meravigliosamente in uno dei suoi, dei suoi capolavori, e la città si ferma, la città si ferma, al netto di quelle che possono essere le assenze o le differenze in questo momento, ma la partita frizza tutto e sarà un evento che per sei giorni netti bloccherà questa città in maniera totale. A proposito, in bocca al lupo a Sandro, come entrerà l'andare? Assolutamente. Pensa che io stanotte sono andato svegliato da un tuono fortissimo alle 5 di mattina, a Milano ha diluviato stanotte. La prima cosa che ho pensato, svegliato da questo rumore dell'acqua che cadeva, è già iniziato l'apocalisse del derby. È vero perché è prevista pioggia tra l'altro per il derby. D'andata. D'andata. Il derby tra pochi giorni è prevista pioggia. A ritorno devo fare un book fotografico in campo pre-derby, non mi fate venire l'acqua. Però la pioggia fa parte anche un po' dell'estetica, dell'estetica da Champions. Anche di drammaticità che si porta. Più in Milano anche l'Inter in realtà, è una bella tradizione. È Milano Manchester. Milano Madrid 89. Sì, è proprio una cosa che ho detto. Hai visto il demone cosa ha fatto, ha tirato fuori anche la statistica sulla pioggia. Sulla pioggia. Non ce l'aspettavamo. Aspettiamo che arrivi. Stasera tu sai che dopo il 4 a 3 di mio discorso stasera siamo messi malissimi. Esatto. Abbiamo preparato un grande quiz. Vi dico che ho dato una mano anch'io. Hai rotto il quiz? Ho rotto il quiz. Ho dato una mano anch'io. Quindi eventuali proteste, eventuali lamentele, prendetevela pure con me. Rivoluzioniamo un po' la scaletta perché siamo in Climaderby. Abbiamo tantissimi temi. E allora, visto che siamo in Climaderby, partiamo con la lettera. Allora, vengo da Roma ma amo Milano. È già una cosa abbastanza paradossale perché non sempre c'è grande affetto tra queste due città. Nel mio caso è enorme perché trovo che Milano sia una città veramente moderna, grande, capace di stare al passo con i tempi che cambiano e con l'Europa. Ecco, dal punto di vista generale del divertimento dei ristoranti e dell'organizzazione è già così. Bisogna cercare di diventare così anche dal punto di vista calcistico perché non si può riuscire ad avere questa partita soltanto una volta ogni vent'anni, quindi cinque volte a secolo in Europa. Bisogna cercare di renderla una, non dico consuetudine, però che le squadre possano andare bene avanti lo stesso e soprattutto che possano farci godere di un grande spettacolo, che sia l'andata, che sia il ritorno, che siano entrambe. Io mi aspetto di vedere una bella partita. Quella del 2003 fu una settimana molto particolare, ma non furono delle grandi partite e meno che mai fu splendido da vedere quello che accadde nel 2005. Non fu un bel messaggio a livello generale. Ecco, mi aspetto che il derby del 2023 regali un grande messaggio, sia di Milano che sta tornando e sia anche di due squadre che cercheranno di giocare a pallone perché ce l'hanno nel DNA. E Milano ci ha vinto uno scudetto giocando a pallone, l'Inter sta giocando in questo momento molto bene a pallone. Quindi mi aspetto una grande partita di calcio e ovviamente che la cornice, che le coreografie, che il pubblico e che tutto quello che stiamo vedendo in alcuni stadi non si veda e non si avvicini minimamente al derby di Milano. Che in questo momento non è la partita della stagione, ma è la partita quantomeno del decennio. E quindi facciamo i bravi, fate i bravi, divertiamoci e divertiteci. Giuseppe? Sarà un derby secondo me carichissimo di tensione, di aspettative, è impossibile che non lo sia perché quello del 2003 che valeva esattamente quanto questo. Allora aveva quasi, se vogliamo, non dico una consuetudine, però c'era la certezza o la buona sicurezza di ritornarci a quei livelli. Qui è una semifinale un po' caduta dal cielo, no caro Ricchi? Due squadre che non vedevamo nelle prime quattro d'Europa ad ottobre e che invece ci sono arrivate. E quindi adesso hanno anche la possibilità di andare in finale. E quindi la posta in pallio è troppo ampia, è troppo alta per pensare a un derby divertente, sinceramente. Lo dico, come dire, sperando di sbagliarmi. Però ci sarà tanta tensione e poco spazio per la poesia, secondo me, al limite quella sugli spalti, sì, per il campo molto meno. Vincerà chi sarà più freddo, secondo me più lucido, nelle poche occasioni che arriveranno, a meno di non sbagliare completamente l'idea. Mi auguro di sbagliare perché magari la grande partita la vorrai. Il motivo per cui nasce questa lettera, Giuseppe, è che pensavo anch'io, tra tuoni, fulmini e notti, chiaramente in bianco dalla notizia di doverla commentare, che ci sono difensori che attaccano. Cioè, c'è Teo Hernandez e Bastoni, sono due che tu, di mestiere, c'è scritto D al fantacalcio, no? Però Teo Hernandez è uno che ti può regalare, e l'ha fatto una volta l'anno, da quando è arrivato, dei costi costi, 80 metri che finiscono con gol. Bastoni è uno che può fare 20-30 passi e poi mettere un cross dalla tre quarti, meraviglioso per i compagni. Darmiane è un ex terzino e, verosimilmente, giocherà a centrale. Cioè, è pieno di giocatori che possono creare cose. Poi tu dici, magari saranno bloccati per la paura di perdere, e lo capisco. Però c'è la possibilità, anche di un Ben Nasser che sta trovando la porta, di giocatori che sanno fare... Cioè, Salma Kers, verosimilmente, prenderà il posto di Leao. E sappiamo bene quello che pensiamo tutti del Milan senza Leao, in particolare io. Salma Kers è uno che ha fatto un gol al Maradona un mese fa, da fuori classe assoluta, con Napoli molto... Baleare. Però, però lo sa fare. Cioè, io credo che le giocate tecniche e le belle giocate... Noi possiamo vedere una partita molto intensa, con qualità tecnica. Poi magari finisce 1-1. Però non è necessariamente che deve essere wrestling e togliere il calcio. Io penso che possano giocare a pallone anche difendendo, ma giocare a pallone. Sì, sì, è un calcio, non diciamo 4-3 City Real, ovviamente, non mi rispetto questo. Però certo c'è la intensità, questo è fuori dubbio. I derby dell'anno scorso, quei due di questa stagione, quelli di gennaio, sono stati molto, diciamo, a senso unico. Quelli del 2022 sono stati molto belli da entrambe le parti. Quindi, ecco, due squadre che stanno bene, e mi sembrano entrambe stare bene al netto di Leao, ci aspettiamo quantomeno intensità e velocità. Che credo sia un buon biglietto per una semifinale di Champions League. Però tuffiamoci per bene dentro questo argomento, perché l'assenza di Leao inevitabilmente cambia, no? Cambia tutto, cambia gli equilibri, cambia forse anche i favoriti, la domanda che vi faccio. Secondo me la squadra complessivamente come organico più forte è l'Inter, ma lo penso anche della stagione 21-22 in cui il campionato l'ha vinto il Milan. La squadra più forte come organico non vuol dire che sia la squadra più forte sul campo. Il Napoli più forte del Milan. Lo dimostrano 20 punti di tacco in campionato. Ma, sulle due partite, il Napoli non è stato più forte del Milan. Poi, sì, potrebbe entrare la palla di Carrascheri al primo minuto dell'andata, c'è rigore sullo Zano, quello che vuoi. Ma sul campo non si sono visti i 20 punti di differenza. E quindi io penso che come l'anno scorso, quando si è girato Giroud, il Milan è riuscito ad essere meglio. È stato meglio anche a settembre nel derby dell'andata di campionato. Allo stesso modo il Milan possa farlo anche nelle due semifinali. Ma se mi chiedi di prendere un pacchetto di giocatori, cioè da una parte entra Lukaku, dall'altra entra Origi. Non c'è gara. Sugli 11 discutiamo, sui 25 secondo me non c'è gara. Sugli 11 anche con Leao? E anche senza Leao? Sugli 11 dico, se devi fare una top 11, prendo Mignan, prendo Teo Hernandez, prendo Leao, prendo 4-5 giocatori per Milan, 6 dell'Inter e viene una cosa equilibrata. Se la facciamo sugli altri 11, secondo me finisce 9-2 per l'Inter. Questo dico. Giuseppe, tu che ne pensi dell'assenza di Leao? Leao è sicuramente un'assenza importante, ma non cambia il mio pronostico che rimane quello della volta scorsa, 50-50. Perché al netto del fatto che Leao è un grande giocatore, lui ha giocato 12 derby, prendiamo gli ultimi 7 con Inzaghi Pioli, ha fatto il devasto. Sì, il derby di andata, non ha giocato nel derby di ritorno praticamente. Ha giocato nel secondo tempo, è entrato. Gli altri è stato quasi, non dico irrilevante, però non ha messo a referto né gol né assist né giocate particolari. Questo è il discorso che facevamo per il Napoli. Il Napoli è una squadra predisposta a esaltare le qualità di Leao, l'abbiamo visto una volta, due volte, tre volte. L'Inter un po' meno. Il derby di andata fu giocato con un Inter in condizioni molto particolari anche a livello mentale. Le stesse che aveva il Milan a gennaio, dove era mancato completamente Teo Hernandez, che era ancora col pensiero al mondiale. Oltre ad essere Cimegnian, che fa molta differenza. Quindi credo che Saleme, per esempio, il gol di Teo Hernandez di domenica, di sabato, arriva grazie anche al fatto che Saleme sta più basso. E quindi consente a Teo di avere molto più spazio per arrivare in fondo. Sono situazioni sulla carta, certo, un Leao in meno è pesante, però nell'economia di un derby che, ricordo, rimarrà comunque deciso da pochi episodi. Sposterebbe di più l'assenza di un difensore importante. Il Milan ha due, Teo e Mignan, che sono due giocatori fondamentali. Non dico che Leao sia di poco conto come assenza. Ma detto che, da quello che leggevo, c'è ancora una piccola possibilità. Domani non si allena. Domani non fa la rifinitura. Mercoledì, ultimo provino per capire se c'è possibilità di convocazione. C'è anche un po' di pretattica attorno a questo. Sapete che lo manderei in campo sempre, no? Come discorso. Ma questa specifica situazione, francamente, avendo tra dieci giorni, che sono diventati nel frattempo otto, tra otto giorni in ritorno, quindi dieci giorni dall'infortunio, che è stato sabato, io onestamente Leao lo metterei in una teca, insieme anche a una madonnina vicino, per averlo al meglio nella partita di ritorno, cercando di tenere botta nella partita d'andata e poi averlo bello surfante nella partita di ritorno. Perché se tu lo metti in campo anche venti minuti nella gara d'andata, perché magari sei sotto 1-0 perché vuoi recuperare e Leao ti si fa male, non solo perdi l'andata, ma non è Leao al ritorno. E secondo me ti chiudi tante possibilità di recuperare. È simile, secondo te, alla situazione Osimen questa? Cioè il Napoli si è chiesto, lo facciamo giocare, non ha giocato a San Siro, poi si è sentita però l'assenza a San Siro, però non stava bene. 90 minuti col Milan, non eccezionali, ma... Comunque è segnato, però... Secondo te... È molto simile. Quindi è meglio averlo o non averlo? È meglio metterlo nella partita di ritorno piuttosto che in quella d'andata. Il Napoli ha fatto comunque un'ottima partita all'andata. Ah, San Siro. La terza 1-0 ma ha fatto un'ottima partita. Il Napoli ha sicuramente un modo di giocare che magari te lo può far rimpiangere di meno in determinate circostanze, però comunque io non... Io voglio, se sono del Milan, se sono il Milan, voglio Leao in campo il giorno 16 perché qualsiasi situazione la posso fronteggiare. Anche se dovesse essere andata male mercoledì, con Leao in campo so che può fare, come hai detto tu, lo stravedi in una partita e farmela vincere con due gol di scarto. Quindi voglio Leao in campo il 16 se sono il Milan. E non me lo rischio il 10 dove, come giustamente dicevate voi, è una partita in cui puoi scegliere di ammortizzarla. Magari te lo porti in panchina, vedi come si mette, vai sotto, lo metti, se sta 0-0, magari no. Come potremmo andare a finire così? Sì, sostanzialmente se la partita si guida con un pareggio è come se non si fosse giocata. Quindi può essere questa una buona strategia. Vittorio in campo, sì, per carità, però sei sempre a San Siro. Esatto, c'è anche questo aspetto. E invece sponda Inter, altro dubbio fortissimo, che secondo me cambia anche un po' il modo di giocare, della stessa Inter. Brozovic o Cialanoglu? Riki. Allora per me Brozovic e non Brozovic. Ah ok, quindi fuori? Per me fuori Mkhitaryan, per me, ma non alleno io e starà fuori Cialanoglu per me. Sì, Mkhitaryan direi che le sta giocando tutte. E 90 minuti in panchina l'ultimo, quindi come Dzeko. Brozovic e Cialanoglu? Beh, il derby pretenderebbe la presenza di Cialanoglu, no? Lui lo dice spesso, che è la sua partita che più lo stimola. Anche in Supercopa aveva fatto le dichiarazioni abbastanza forti. Per come Marcello Brozovic, Brozovic è un giocatore magnifico, non esattamente in tensione, 50 partite all'anno, il Milan con Brozovic si è esaltato ecco, più volte contro il Milan. Brozovic si è esaltato, sì. Il giocatore è che, io ricordo che la coppia Perisic-Brozovic ha vinto tanti derby quasi da sola nelle ultime 4-5 stagioni. Certo, quest'anno Brozovic un po' in declino, anche se le ultime partite sono ben auguranti. È una bella responsabilità, forse avrebbe, forse avrebbe tutti e due con Cialanoglu, che per ormai ha perso un po' se il passo da mezzala. si è sintonizzato da un po' su quella posizione di regista. Non è stato qualche volta in campo, nelle ultime settimane, quando non ha giocato Mkhitaryan, eccetera. In Colverona. È stato in campo come mezzala e come hai visto. Peraltro con mezzala, Cialanoglu è uno che fa male, tira bene. Forse ha il suo ruolo, tra l'altro, quello. Credo che Brozovic, non dico che pretenda di giocare lui, però per lo status di giocatore, è uno stato superiore a quello di Cialanoglu, perché Brozovic ha un curriculum superiore. In teoria è il capitano, tra l'altro. Se tu parli anche con i giocatori, te lo dicono proprio, che Brozovic fa un altro sport, cioè che è proprio un livello superiore. Secondo me Inzagli vede come quel livello anche Mkhitaryan, e non è che sbagli di tanto. Cialanoglu rispetto a questi è considerato un pochino indietro. Io lo vedo invece un giocatore probabilmente un pochinininino indietro, e secondo me quel pochinininino glielo leva la garra che mette nel derby. Quindi secondo me nel derby è a quel livello lì. Poi, sai, giocherà comunque almeno mezz'ora, quindi sicuramente la mezz'ora finale, quindi non è certo uno spezzone irrilevante. È l'ultima domanda che vi faccio, è chiaramente quella legata all'attacco, perché il dubbio più forte è quello che c'è tra Giacomo e Lukaku, sì, perché il Milan diciamo è più o meno definito, no? L'assenza di Leao, poi alla fine giocano quelli, no? Sì, gioca Kier, non giocherà Kalulu, mi sembra tutto abbastanza definito. Sì, Kalulu. E nell'Inter c'è ancora qualche piccolo dubbio, perché Lukaku ha dimostrato di stare bene, anche Giacomo però. Faccia un Kalulu-Kier Tomori. A tre? Ah, addirittura. Teo avanti. Teo più alzato, e con Drain Diaz vicino a Giroud. A specchio quasi. 3-5-2 a specchio? L'ha fatto al derby di ricampionato. Però non l'ha fatto. Non è andata bene. Non era andata bene. Non è stato proprio lo spettacolo. Senza Leao firma per perdere un a zero? No, era un derby. Quello era un derby dada, tamponare l'emorragia quella lì. Questo Milan che ha trovato nelle quattro partite col Tottenham e col Napoli, specialmente negli ultimi due, un assetto non spettacolare, molto legato a Leao magari, ma molto solido come proprio meccanismi e sincronie. Quindi Milan non cambia. Il dubbio e il ballottaggio è molto giornalistico tra Dzeko e Lukaku, secondo me. Non è nella testa giusta. È già fatta, gioca Dzeko. Almeno l'andata gioca Dzeko. Ha fatto 0 minuti, 90 minuti, 0 minuti e ne giocherà 68 con... Le quattro di Champions è sempre... Ma è una cosa giusta, secondo voi? È giusto che non giochi Lukaku questa partita? O comunque non giochi dall'inizio? Secondo me non è giusto. È sacrosanto. Sacrosanto. Lukaku ha fatto dei gol e ha fatto degli assist in netto ritardo rispetto a quando è stato schierato perché oggi ha fatto quattro gol e tre assist nell'ultimo, diciamo, due o tre settimane. Ma gioca da febbraio, eh? Cioè non è che ha cominciato a giocare a fine aprile e a metà maggio sta a quattro gol e tre assist. Ha cominciato a giocare a febbraio, ha fatto delle partite scabrose, tipo Monza-Inter, ha fatto delle partite terrificanti, ha sbagliato dei gol che neanche Andrea Gonzalez con la racchetta in mano farebbe quegli errori. Però, che succede? Che dal punto di vista numerico oggi segna e ci sembra che sia tornato. Ma tu l'hai vista Roma-Inter? Sì, certo. Lukaku è forse il 26% di quello che ho visto con Conte. Fisicamente, strutturalmente, eccetera, eccetera, eccetera. E soprattutto l'Inter ha avuto un percorso in Champions League, come dice Giuseppe, che porto, porto, benfica, benfica, hanno giocato già che Lautaro. E l'Inter non ha bucato nessuna partita. Non ha fatto le fiamme in nessuna partita, ma non è mai stata l'Inter di La Spezia, l'Inter di Genova, l'Inter con l'Empoli all'andata, eccetera, eccetera. È sempre un Inter credibile e soprattutto vincente. Quindi, secondo me, non c'è un motivo per cui tu debba cambiare questo tipo di gerarchia. Al netto del fatto che Giaco ti ha fatto anche due gol dopo tanto tempo che non segnava e che Lukaku non è in quelle condizioni di sfasciamento avversari come l'abbiamo conosciuto. E in più parte molto meglio Lukaku dalla panchina di quanto non parte Giaco dalla panchina. Quindi per me non è un ballottaggio. Non c'è più ballottaggio in centrocampo, ma se me non c'è neanche lì, per Inzaghi, dico, piuttosto che sull'attacco. L'attacco non avrei due. Sei d'accordo? Sì, parte Giaco, perché non solo aggiungo le quattro di Champions, ma anche le due con la Juve in Coppa Italia, che sono comunque partite a un certo livello. E in generale perché... Ed è passata pure lì. Esatto. Lì perché non ha fallito, ha avuto sempre Giaco e Lautaro davanti. Arrivo anche a dire che Lukaku, secondo me, può anche rispetto a Giaco sentire un po' più dell'emotività di una partita che lui comunque non ha mai disputato. La semifinali di Champions Lukaku non l'ha mai fatta. Giaco sì, anche se poi chiaramente 5 anni fa... Goll'andata, goll'ritorno. Al di là, ha fatto tante altre cose anche Giaco, non solo quelle. Però Lukaku, il derby, come dire, lo ha sempre affrontato molto bene ai tempi di Conte, di cosa faccia la gola in tutti i derby. È giusto che parta Giaco. Va bene. L'abbiamo definita questa cosa. Ma che Siani non è d'accordo. No, 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 no. Non è vero. Non ora anche Lukaku per la legge del 62. Non è d'accordo. La legge del 62. Per me va bene tutti e due. Si l'ha chiesto e te l'ha richiesto. No, vorrei capire. Non è vero. Vorrei capire, ovviamente, li ho viste al vivo le ultime partite dell'Inter. No, è giusto, perché io sposolo da causa, vedo anche che sta bene Lukaku, chiedo a voi che siete espertissimi. Bravo, sta bene ma non benissimo. Bene ma non benissimo. Bene. Ma non benissimo. C'è stato 6 e mezzo, capito? 6 e mezzo per levare uno che in carriera gioca a calcio come gioco, ha fatto 400 gol, se a me ce ne vuole di più, di bene. Va bene. Vedremo, vedremo, vedremo. Tra l'altro, vabbè, poi vi faccio anche... Ultimissima cosa, se vuole fare delle sorprese che si fanno al ritorno, secondo me, l'andata si va su quelle annunciate. Sai che non è tipo una sorpresa, mi è da dire. Non so, forse è più piore. Questo non possiamo dire, mi sembra abbastanza chiaro. Come ne hai una a sei giorni dall'altra, se hai un asso nella manica e lo giochi a ritorno. Chiaro, l'andata deve essere ancora tutto in bilico, e per carità. Ma quale è l'asso? Cioè, Scrinia che improvvisamente sta bene? dico proprio un Lukaku a sorpresa. Però in base a come si mette la gara d'andata, forse, no? Sì, sì, se vuoi sorprendere l'avversario. Non so, 3 a 0, devi recuperare. Eh beh, a quel punto ci vorrebbe... Esatto, ma i cambi. Ci vorrebbe tanto, certo. Chissà. Vedremo, vedremo, vedremo. Andrea, se sei d'accordo, io toglierai subito il dente del Vedi Come Parla Nando perché parla proprio del derby, così, come ho detto, chiudiamo anche un po' l'argomento, ovviamente ci torneremo successivamente. Nando, ma io sono sempre d'accordo con te. Quella! Questa è una grande bugia. Come siamo entrati live un'ora e mezzo dopo. Sto cercando di comprarmi. Hai capito? Allora, Vedi Come Parla Nando, eccolo qua. Sì. Si chiama Chi Vuole Vivere Per Sempre perché secondo me chi decide l'Euroderby in un modo o nell'altro è destinato a vivere per sempre. Quello che diceva Ricchi prima è giustissimo. Il derby, questo derby non è soltanto una partita di calcio, non è soltanto la partita più importante dell'anno, la partita più importante degli ultimi 15 anni probabilmente per queste due squadre. E inevitabilmente c'è la possibilità per tanti giocatori di cancellare quanto non fatto fino adesso e di regalarsi l'immortalità. Noi, a distanza di 20 anni, ci ricordiamo ancora di giocatori, tutto sommato, irrilevanti nella storia. Mi viene in mente Callon, mi viene in mente Martins, lo stesso Abbiati che comunque ha vinto poi degli scudetti per carità con il Milan ma sicuramente il Milan ha avuto portieri migliori nel corso della sua storia. Eppure tutti, tutti, tutti i tifosi Milan e Inter sanno se i nomini Abbiati la parata su Callon sanno che se i nomini Callon è lui l'uomo del rimpianto massimo di quella partita. È un'occasione unica è un'occasione unica per chi? Per i Lukaku, per i Correa, per i De Ketelare, per quei giocatori che fino adesso non hanno sostanzialmente rispettato le aspettative ma hanno un'occasione unica. Il calcio oggi sta dando a questi ragazzi un'occasione unica. Quella di entrare nella storia e di cancellare quanto non fatto fino adesso, quanto di male fatto finora e di diventare per sempre parte della storia del calcio immortali assolutamente immortali Inter Milan ti dà questa possibilità e tocca a loro sfruttarla. C'è la possibilità di entrare dalla parte giusta della storia o dalla parte sbagliata. In ogni caso noi ci ricorderemo per sempre dei protagonisti di questa partita e in un anno in cui sostanzialmente Inter e Milan hanno un po' deluso hanno un'occasione unica. Mi preme dire questa cosa perché il derby di vent'anni fa era più o meno così e noi ci ricordiamo tutti dei protagonisti di quelle partite oggi c'è ancora una volta questa possibilità e entrambe le squadre non dovrebbero mai dimenticare di avere un'opportunità del genere. È vero, aggiungo che la grande generazione del Milan di vent'anni fa i Pirlo i Gattuso gli Ambrosini in esta nasce da quel derby cioè se tu non vinci quella Champions League probabilmente non apri il ciclo che porterà a divincere un'altra a perdere un'altra finale anche a vincere un mondiale per alcuni di loro quindi è uno spartiacco per delle carriere non è la partita e poi mi ritiro e inizia qui la mia carriera ad alto livello perché ho vinto questa partita perché sono andato in finale magari ho vinto anche quella chissà e quindi mi elevo di un gradino riesco a superare a fare uno step di maturazione anche mentale perché sono sopravvissuto a quel derby che è questo e quindi la storia è adesso e questo credo che molti giocatori questa cosa la sappiano poi tra il dire e il fare però quando dicevo e facevo la detta alla città di Milano quello che mi piacerebbe è che da questo derby si uscisse comunque e non sarà così perché vedo la serenità proprio da una parte e la città di Milano dall'altra anche con un po' di gratitudine per questo percorso che è stato fatto e diciamo che allora faccio due tutti e due gli scenari esce il Milan anziché dire a Messias torna a giocare a campionato di Ginnati messias ha vinto lo scudetto l'anno scorso l'ha vinto da sfavorito ho preso Messias come esempio di uno che è arrivato a Milano all'improvviso ha vinto il campionato ha fatto il golo a Wanda Metropolitano ha fatto dei goli importanti ma certamente non è un giocatore del Milan abituale o del Milan che ci ricordiamo quindi anche se Milano dovesse perdere piacerebbe che non fossero giocose a canimento contro i giocatori la stessa cosa vale per l'Inter pensare che l'Inter ha vinto diversi trofei in questi anni ha fatto un percorso inquiriatamente in finale in ogni competizione che ha fatto negli ultimi anni è vero ha perso il derby della vita che è costato un campionato l'anno scorso e quindi sarebbe un secondo derby perso che manderebbe i cugini in finale quindi capisco il fastidio però tenendo sempre presente tutto quello che questa squadra comunque ha fatto nel corso del tempo con dei giocatori citavamo prima Brozovice Dzeko Mkhitaryan Bastoni Barella c'è gente di livello altissimo nell'Inter e ci sarebbe anche se questa attiva dovesse finire per esempio ai calci di rigore che è uno scenario che io non escluderei se la gara andata dovesse essere equilibrata non lo escluderei che nel ritorno si finisse oltre il centoventesimo cioè è un calcio di rigore è una sfida che finisce pari e per le parate di Magnano non ha una finition in un altro modo per lo seguimento o per gli errori di chi tira da lì a buttare tutto a mare non lo farei cercare di essere edulcorato e non lanciare dei petardi ai portieri avversari ricordi bene quello di vent'anni fa in cui l'allenatore che uscì sconfitto di fatto fu cambiato nel giro di qualche mese questo discorso secondo me almeno a livello di piazza può valere anche per Piole in Zaghi cioè da allenatori che hanno fatto già un lavoro clamoroso di venire in semifinale ma non basta perché c'è il derby e questo cancellerà purtroppo tutto il buono perché non stai uscendo in semifinale ma stai uscendo in un derby è drammatica la situazione perché se ci fossero Lazio e Roma allo stesso livello in semifinale di Champions ugualmente a sorpresa sarebbe la stessa cosa certo certo forse con la Juve quando aveva sostituito Zeman ha fatto delle buone cose poi apprezzo il derby del 26 maggio e c'è ancora c'è esatto c'è il memoriale praticamente però però capito che dico se il Milan dovesse perdere ha già vinto da sfavorito lo sconfitto l'anno scorso quindi comunque dovesse perdere l'Inter certo la seconda volta che col Milan non riesce del faccia a faccia importante ad averla meglio ma ha fatto tante altre cose buone poi certo magari per l'Inter che veniva dallo scudetto e in due anni consecutivi perde col Milan può essere considerato un po' più grave ma da qui a passare per i poni e essere insultati anche no cerchiamo di fare una bella figura assolutamente ma quello credo che non sia non sia in discussione solo che secondo me è una partita talmente importante Ricky esatto talmente grande ragazzi è un dato di fatto tra l'altro in un anno così per queste due squadre cioè fosse capitato non so Real Barcellona sono squadre sostanzialmente sono abituate a questo tipo di partite invece Inter e Milan no anche in una stagione tutto sommato negativa il Milan non ha mai lottato per lo scudetto l'Inter uguale però hanno questa occasione qui e poi esattamente come ci ricordiamo ma non per forza dobbiamo insultarli o dobbiamo il contrario assolutamente no però è un dato di fatto che ci ricorderemo di loro immagina un derby deciso da De Ketelare o deciso da Correa i due giocatori che hanno la popolarità minima in questo momento tra tra le due squadre probabilmente non succederà dovesse succedere però che occasione è per entrambi per questi giocatori che succede c'è qualcosa che non va perché vuol dire che sono entrati in campo ho capito però non può succedere Correa entra spesso Correa entra secondo me in questo momento prima che diciamo che Django si attenda con Lukaku quindi per entrare Correa deve uscire il 10 e prima che esce il 10 secondo me sul cronometro c'è scritto 86 87 una roba così sperimentare sarà mica matto no 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 perché poi è potenzialmente un rigorista cioè diventa poi no se non gioca non c'è la Noglu e Lukaku però è chi lo tira è così c'è molte alternative chissà Lukaku Lukaku è in campo sicuro hai gli eventuali rigori si entra per giro signor che riconista è l'Inter c'è un rigore dopo 10 minuti mercoledì e Lautaro Lautaro secondo me se ne discute Brozovic se non c'è Brozovic c'è la Noglu beh quindi non si pone Michi Tarriano non è un no no Dzeko ne ha sbagliati tanti in carriera Di Marco ne ha sbagliato uno sì con l'Atalanta con l'Atalanta nel Milan c'è Giroud tutti vorrebbero sfidare a Mignano vedranno loro dico anche un'ultima cosa hanno parzialmente sistemato l'Inter quasi totalmente sistemato la classifica in chiave Champions anche per la notizia arrivata oggi da Torino che a quanto pare dà per certa una nuova penalizzazione alla Juventus e in questo caso non me ne vogliono i tifosi juventini ma la Juve finisce dietro l'Inter e il Milan il Milan quindi in questo momento io lo do per quarto con tre punti più scontro diretto sull'Atalanta e tre punti più differenzareti sulla Roma io più che quello penso visto che diciamo che del paese italico mi fido poco penso che comunque ci sia lo spettro della UEFA e dell'Euro stangata a togliere comunque la posizione che la Juventus oltre a un ulteriore filone quindi il filone in questo momento non lo considero che aveva visto in Italia come arriva meno 15 poi no ma ho scherzato 15 te li vediamo l'Italia non è un paese affidabile la UEFA non necessariamente lo è ma secondo me da questo punto di vista sarà molto più intransigente di quanto non sia successo in Italia quindi dobbiamo considerare nei nostri discorsi che la Quinta ha chance di andare che non vuol dire fare i complimenti alla Quinta perché la Quinta comunque non era tra le prime quattro è andata dietro a una Juventus che ha avuto mille difficoltà e quindi alla Juventus tra virgolette gli si fanno i complimenti se dovesse arrivare seconda nel casino che ha avuto con gli infortuni che ha avuto non giocando bene e con le problematiche abbiamo sempre analizzato però se la Juventus arriva seconda la stagione della Salva secondo me il problema è il numero di punti ma vale per la Juve per l'Inter per il Milan per la Lazio per la Roma e per l'Atalanta stanno facendo pochi punti se poi la discussione sarà eh ma sono andati in Champions League benissimo se la Champions League c'è la quota più bassa di sempre tu non sei diventato una grande squadra sei andato in Champions League ma non sei diventato una grande squadra cioè andare in Champions League con 75 punti o con 63 c'è differenza nel tuo valore e nel tuo futuro assolutamente vero 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 come andiamo avanti Andre che io abbiamo delle sentenze abbiamo un TreviAdvisor tra l'altro ce li consigliate anche sotto i tre poi abbiamo una super pastorale io andrei sulla pastorale andiamo di pastorale andiamo di pastorale andiamo di pastorale perché oggi vogliamo fare un po' un po' come ci pare e quindi eccolo qua pastoriale eccoci qui pastoriale eccolo qua allora il titolo è normale perché per una volta è una pastorale normale in cui non attacco nessuno non me la prendo con nessuno è un vento di preoccupazione quello che alcuni tifosi in Napoli vedono soffiare in controluce nella meravigliosa festa scudetto di ieri perché giuntoli quasi certamente andrà via perché Spalletti perché Kimmo Zimen in realtà è tutto normale è tutto normale che una squadra che ha centrato un risultato epocale sfido chiunque a dire che lo scudetto dopo 33 anni non lo sia si guardi un po' dentro e dica abbiamo fatto questa cosa che può essere anche un punto fermo nella storia del club e di tutte le singole carriere di Gaga Giuntoli Spalletti eccetera fermiamoci a riflettere Giuntoli ha già dichiarato tra le righe che andrà via e che lo aspetta la Juve ed è normale anche questo è normale Giuntoli arriva dopo una promozione dalla Bialà con il Carpi a Napoli pensate quanto possa aver ritenere di aver concluso il suo percorso a Napoli dopo otto stagioni è normale che Giuntoli si veda la fine di un ciclo Spalletti è un uomo di 64 anni che ha sofferto molto questa stagione la prima volta che vince uno scudetto è un uomo tormentato che ha comunque tanti rovelli anche quando ha vinto lo scudetto ha pensato alla Champions League dove era stato eliminato col Milan è normale che si prenda la parte di riflessione è normale che se la prenda anche quei giocatori che razionalmente difficilmente potranno fare meglio di così Napoli vuole vincere anche la Champions magari ma uno scudetto a Napoli con 33 anni è un qualcosa che obbliga a riflettere obbliga a riflettere Osimeno obbliga a riflettere Kim che è una clausola che peraltro potrebbe essere pagata dallo United obbliga a riflettere anche con Rascheglia questo non vuol dire smobilitare questo vuol dire fidarsi di un progetto tecnico inattaccabile che fa in questo momento del Napoli la squadra migliore d'Italia a livello non solo di punti in classifica ma anche economico perché sicuramente sta meglio dell'Inter della Juve e della Roma del Milan parliamone ma è comunque un'eccellenza al di là della classifica e vuol dire fidarsi di un presidente che con tutte le sue asperità ha tutti i suoi modi un po' sgarbati però ha dimostrato che quando va via il big sa sempre sostituirlo è tipico anche un po' dell'italiano non solo del napoletano vedere la delusione immaginarsi già l'amaro al momento del dolce non è questo il punto e Napoli è ha diritto di essere credibile quando parla di un ciclo di qui a 2-3-4 anni perché è quello che ha fatto quest'anno ma tutto ciò che ha fatto negli anni scorsi e che ha portato a questa stagione dà diritto a De Laurenti e a tutto il Napoli di essere credibile quando si parla di un altro scudetto di una Champions di un progetto a lungo termine che a Napoli non c'è mai stato lo dice la storia però non vuol dire che non possa esserci ma secondo voi tra Spalletti e De Laurenti che sta succedendo? cose normali di due persone con un carattere molto particolare vogliono sentirsi cuccolati ognuno vuole che l'altro gli riconosca il merito di quello che ha fatto De Laurenti di aver pescato bene col mercato attraverso i dirigenti Giuntoli Micheli Servatori tutto il resto e Spalletti vorrebbe sentire se non c'eri tu non arrivava cosa che peraltro hanno ragione tutti e due quindi gli piace fare un po' tipo quando stavano in acqua Aldo Gianni e poi dopo rimarranno insieme e vedremo un grande Napoli anche l'anno prossimo secondo me a prescindere da chi rimane da chi parte su questo sono d'accordo con Giuntoli il Napoli ha una struttura forte il Laurentiis può non essere la persona più simpatica del mondo ma certamente non è un incapace è uno che ha messo insieme tante cose ha fatto diventare il Napoli forte il Napoli ha fatto costantemente la Champions League ha lottato per il scudetto alla fine l'ha vinto l'ha vinto quando ha ringiovanito la squadra tanta tanta roba il lavoro di De Laurentiis poi ripeto mille volte avrei fatto una dichiarazione in meno e mille volte l'ha arrivata diversa però non è un concorso di simpatia c'è da portare a casa del lavoro il Napoli ha i conti a posto ha vinto il campionato c'è una squadra fortissima c'è un allenatore straordinario volevo dire che c'è un genio nella chat che ha scritto credo si chiama Mirchetto o Malamente se non ho preso male il nome che dice ragazzi va bene tutto ma dove cazzo sta la pulsantiera è lì è lì è lì è lì ragazzi è lì è lì io la vedo io la vedo tra l'altro a proposito visto che ha letto spoiler un commento così a buffo leggo un altro perché c'è scritto che la lampada dietro Ricky è alimentata dalle idee di Trevisani mi ha fatto molto rire inquadriamola fai il regista per bene eccola lì eccola lì è alimentata eh no è troppe idee troppe idee tra l'altro grandissima anche la festa del Napoli con Liberato Giovelier Clementino Clementino insomma la dimostrazione di questo Sorrentino la dimostrazione in questo momento Napoli è davvero il centro di tutto artistico culturale sportivo la gente fuori dallo Stato cioè arrivare lì nel centro del casino non vedere niente sentire solo respirare quello che arrivava da fuori mi ha impressionato perché c'erano veramente moltissime persone anche fuori dallo Stato è un'estate infinita che andrà avanti chissà quando e che Napoli è che finisca l'estate aspettava perché ho visto per esempio nel 2001 la Roma festeggiare fino alla quinta sesta di campionato arrivare terza o seconda per due punti l'anno del famoso 5 maggio e pentirsi amaramente di quei sette punti su nove buttati nelle prime tre giornate del 2001 2002 il Napoli secondo me stante la situazione anche delle altre avrebbe tutte le carte in regola visto che non si sa cosa succederà della Juventus e come stanno tutte le altre squadre se anche dovesse perdere lo Simen che comunque arriverebbero una valigia da 100 almeno quindi potresti sostituirlo come cavolo ti pare io credo che se tu hai la possibilità di cambiare questa squadra togliere lo Simen e mettere un altro grande attaccante Napoli può da capo fare un'altra grandissima stagione a patto che non cominci a novembre perché stanno ancora con le trombette a festeggiare questo vedremo sì tra l'altro leggevo su un articolo che avevi consigliato tu Giuse non ricordo il nome del collega sulla festa del Napoli che aveva assunto delle proporzioni ancora più belle perché la festa del Napoli per la maggior parte delle persone che sono tifose del Napoli è dedicata a chi non c'è più l'articolo di Ferdinando Cotugno su Marie Claire che salutiamo un articolo bellissimo un articolo estremamente vero che era soltanto marginalmente di calcio questo è vero Napoli a tutti i napoletani hanno un parente un genitore uno zio un nonno che non c'è più e che non ha più visto uno scudetto ai tempi di Maradona a cui hanno tutti pensato e anche Spalletti alla fine è dedicato lo scudetto al suo fratello che naturalmente è un clima che porta anche a questa comunione molto forte sia da Napoli troverte dappertutto disegni immagini di Maradona Troisi Pino Daniele Totò Peppino e quindi sono lì sembra retorica ma c'è un rapporto particolare che in queste questioni di festa chiaramente viene fuori di come uno si veste c'è un altro genio perché noi comunque siamo geniali noi ma ci seguono dei geni Robby 99 che dice a televisione dopo il quiz non si sarebbe cambiato sarebbe sempre di nero e invece si è cambiato perché purtroppo o per fortuna avevo un evento che ho partecipato prima e non potevo andare in maglietta e che mi sono dovuto per forza cambiare adesso mi sono vestito nero io vedremo quindi mi ce la si ha nel quiz no io ho fatto le domande quindi se partecipo io lo vinco perché ho fatto le domande è vero perché questo demone potrebbe anticiparmi anche nella lettura andiamo con le sentenze il momento delle sentenze anche perché le sentenze di oggi toccano degli argomenti che sono comunque molto discussi sono stati molto discussi durante questo weekend partirei se sei d'accordo dalla questione arbitrale con Ricchi e tra l'altro ha un passato da arbitro no Ricchi se non sbaglio e quindi fate parlare gli arbitri sì non mi vorrei sostituire a legislatore né quando parlo di playoff e playout né quando parlo di questa cosa ma secondo me gli arbitri non solo dovrebbero mettere a disposizione le immagini e audio video di quando ci sono i discorsi fatti in auricolare mentre arbitrano come accade per esempio in altri sport ma soprattutto dovrebbero parlare alla fine della partita io voglio sentire doveri cosa ha pensato ieri durante Atalanta Juve alla fine in Atalanta Juve mentre ammoniva Vlaovic in Atalanta Juve voglio sentire il parere di un arbitro che ha provato per alcuni secondi a reggere il regolamento e quindi a non ammonire Vlaovic ma davanti all'insistenza della sua sultanza e parzialmente della risposta agli insulti razzisti è stato costretto poi ad ammonirlo ma lo voglio sentire da lui ma perché l'arbitro non deve essere un essere umano in grado di parlare e di spiegare allo stesso modo di questa situazione o perché hanno dato un rigore e perché Chiffi non può rispondere a Murigno dopo Monza-Roma perché gli arbitri sono muti perché sanno arbitrare si presuppone molti no ma sanno arbitrare ecco sapranno anche parlare e quindi fateli parlare perché se no sembrano dei meccanismi esterni incapaci di intendere e di volere che non sanno neanche rispondere alle problematiche che gli propone il campo secondo me questa cosa può solo far male e creare un muro di omertà completamente inutile dal quale si esce lunedì dicendo vabbè ma è andata tutto bene e invece tante volte non è andata bene e quindi se sentirlo spiegare da loro ci farebbe anche capire molto bene quelli che possono parlare di quello che accade in campo e quelli che non possono parlare quelli bravi e quelli meno bravi non dovete aver paura del giudizio tenerli chiusi in una teca non parlare è una cosa che non fa bene né al calcio né agli arbitri né a chi lo segue cioè noi che lo raccontiamo e la gente a casa che lo vuole ascoltare è stata una situazione un po' particolare quella di Bergamo no Giuse perché davvero molto simile se non identica a quella di Lukaku con la Juventus e ha avuto però praticamente lo stesso epipio persino meno grave peggiore forse peggiore Vlauic si è portato un dito alla bocca un gesto che assolutamente non è passibile di ammunizione ha corso un po' di qua un po' di là comunque senza avere atteggiamenti provocatori verso la curva Atalanta ha fatto il gesto continuate ma dopo essere stato ammunito quindi dov'è di fare un'ammunizione sulla base di onestamente non so cosa e anche se fosse nel momento in cui dopo che è arrivato il gruppo lui esce dal gruppo gli rifà sotto così e in quel momento lo ammonisce benissimo non abbiamo visto la scena ma evidentemente è andata così ma se tu la fai dopo due settimane in cui la Fidercalcio ha di fatto sconfessato l'ammunizione a Lukaku di massa perché ha detto no non andava ammonito l'ha sconfessata un uomo un presidente è stato gravina è stata la mano di gravina a maggior ragione non la giustizia sportiva o il giudizio si che anzi ha confermato ancora una volta poi quando ha commentato ha detto però se dovesse ricapitare per regolamento quello è già la gente non capisce però il mondo non capisce questo eccesso di formalismo che la norma di regolamento è corretto e non mi non entro nel merito però poi non viene colto all'esterno quando poi hai nomi di peso internazionale come Lukaku e Vlaovic intramenti è l'inter della Juventus che magari si lamentano pubblicamente a una platea che non è il bacino d'utenza di Atlanta ma il mondo intero e tu non puoi rispondere dicendo ma il regolamento in realtà se voi andate a vedere c'è il gesto ha fatto così no perché tu stai punendo una vittima di razzismo apparentemente senza far nulla poi vedremo la procura federale gli ispettori e questo è un atteggiamento che il pubblico del mondo non capisce anche le parole di Gasperini su cui torneremo fra poco sono dei tentativi di autoassoluzione nel mondo del calcio che andavano bene 30 anni fa quando ce la cantavamo e ce la suonavamo noi ma in un contesto globale in cui hai Lukaku che ha milioni di follower Vlaovic lo stesso agenzie giocatori di fama mondiale e noi peraltro facciamo tutto per portarli da noi perché da lustro al campionato tu non puoi trattarli così e poi fammi dire una cosa su Vlaovic Vlaovic ha fatto veramente niente cioè Vlaovic ha preso un calcio da Gosens che è stato sì buonanotte da Mele penso che associazione ho fatto sinistro sinistro esterno esterno e ha preso un fallo Mele è stato ammonito da quel momento in poi è cominciato il Dalle allo Zingaro che è continuato quando si è mangiato un gol non da lui probabilmente anche nervosito e dal momento e dai e dai cori e quando ha segnato anziché prodigarsi in dei grandi gesti dell'ombrello apotropaio apotropaio che io avrei gradito io dicevo ieri a Pressing secondo me è il gol della Juventus della storia del calcio a cui ha esultato il maggior numero di tifosi in Italia perché anche gli anti-juventini secondo me hanno esultato ieri sono d'accordo io onestamente credo che queste forme di reazione da parte di Vlaovic da parte di Lukaku comunque in generale reazione a degli insulti così forti siano una sorta di legittima difesa per la sanità mentale cioè se una persona mi insulta per 90 minuti e mi dice di tutto e tra l'altro mi tocca nelle cose che mi fanno male ma se io segno ma avrò il cavolo del diritto di fare una cosa qualsiasi cioè anche nei limiti addirittura devo anche essere ammonito cioè nel senso è vero che il regolamento dice una cosa però io neanche posso impazzire cioè non è giusta questa cosa c'è anche il buon senso da parte di qualcuno la soluzione è le squadre mettono le telecamere riconoscono le persone le puniscono vengono dati i d'aspo ma non è d'aspo sei mesi un anno se io ti prendo a fare il razzista allo stadio tu allo stadio non ci metti più piede ma proprio mai più vedrai che con le sanzioni la gente si calma punto A punto B tu prova anziché dare 10.000 euro di multa per cori che 10.000 euro le società li pagano per un'ora di allenamento del terzo portiere prova a dare 300.000 euro di multa alla società e vedi se la società si prodiga o meno nell'andare a ricercare i colpevoli di queste cose punisci li attaccali sui soldi le società e sul non più andare allo stadio i tifosi e vedrai che le cose migliorano tanto senza sanzioni la gente fa quello che vuole come da sempre e come su internet dove per far sì che la gente abbia i multi account abbia numeri maggiori eccetera eccetera ognuno fa quello che vuole perché tu questo discorso lo fai di Vlaovic ma io mi sento molto toccato da personaggio semi pubblico del fatto che la gente dopo una telefonica possa dirmi speriamo che muori tu, la tua famiglia quello, quell'altro sei una merda sei tifoso di quella di quell'altro sei un pagliaccio ormai vale tutto e non va bene questa roba qua non va bene non va bene su internet non va bene allo stadio non va bene da nessuna parte bisogna cercare di mettere delle regole per evitare che le persone facciano come vogliono non mi sembra molto difficile quando ti iscrivi a un social network mettere nome, cognome numero di telefono se no non ti puoi iscrivere è la cosa più facile del mondo dopodiché se a me mi va ti vengo a perseguire ti vengo a cercare e ti faccio piagne perché non può essere che valga tutto se no vale tutto ognuno dice tutto e è tutto libero ecco rutto libero è un'altra cosa tutto libero non va bene non va bene non va bene detto ciò fatemi controllare se in due giorni è arrivato un tweet di scusa dell'Atalanta Avlaovic no ultimo tweet ieri primavera sono arrivate le scuse di Giorgio Gori oggi però di Giorgio Gori sindaco della città la società ieri per bocca del suo allenatore ha detto non è razzismo è maleducazione tu spieghi a un giocatore vittima di razzismo che guarda che non ti devi offendere perché non erano mali razzisti se lo dico io che ho 65 anni sono bianco piemontese e quindi non ho mai sperimentato alcuna forma di razzismo in vita mia ma ho il diritto di dire a te che tu ti offendi ma guarda che sbagli perché sono maleducati ma non sono razzisti vogliamo lanciare la seconda sentenza si condanno il modo in cui ha detto Casperini le cose dopodiché l'abbiamo detto anche qui altre volte la gente non sa neanche il perché uno è nero uno è bravo uno è così uno è così va lì allo stadio vedi quelli che fanno e va appresso ma se la tua ignoranza da capra ti porta a fare il razzista devi essere punito come un razzista non me ne frega niente l'ignoranza non è una giustificazione non è che il tuo avvocato qual è il tuo avvocato l'ignoranza no l'ignoranza è una colpa l'ignoranza è una colpa non è che poi fa come te pare perché ah ma sono ignorante non lo sapevo stavo dando 220 non ho letto il cartello e non l'hai letto prendi la multa già è intollerante con gli intolleranti seconda sentenza no esattamente si ricollega proprio a questo per questo lo volevo lanciare il razzismo non ha colore questa era la seconda sentenza di Ricky che si ricollega un po' anche al discorso che abbiamo fatto anche fino a questo momento non ha colore perché a me fa impazzire il fatto che siccome l'hanno fatto con giocatore nero allora è grave e allora siccome Vlaovic è solo Zingaro è un razzismo di secondo livello e poi c'è quello che dice lava lì col fuoco che è di terzo livello non c'è il razzismo di primo secondo terzo e quarto livello c'è il razzismo c'è una schifezza che si chiama razzismo e va debellata e condannata e con tutti i mezzi tolta da mezzo e se continuiamo a girarci dall'altra parte perché ma tanto allo stadio non va bene niente non va bene neanche dire figlio di puttana materazzi con la madre appena scomparsa non va bene niente di quello che accade dentro uno stadio dovresti fare i cori prendere in giro sì esultare sì goderti la squadra sì ma entrare nel campo del razzismo no e dobbiamo essere noi che comunichiamo e i giocatori e gli allenatori che comunicano i primi a cercare di farla finire questa schifezza perché altrimenti andrà sempre avanti come diceva Giuseppe Primo giustamente ci guarda tutto il mondo vogliamo prendere gli europei vogliamo diventare un paese credibile cominciamo a essere credibili cominciamo a fare campionati dove non compaiono e scompaiono penalizzazioni dove chi fa bubu allo stadio come dei coglioni viene preso e cacciato via a vita da dentro lo stadio mettiamo delle regole diventiamo credibili sapete perché l'NBA e la Premier League funzionano non funzionano perché sono più spettacolari i campionati funzionano perché c'hanno delle regole provate a fare una cosa razzista in NBA o in Premier League e vedete dove vi mandano vedete dove vi mandano capito? così funziona le regole le regole perché le regole portano i risultati buoni all'interno dei campionati altrimenti c'è il solito grandissimo vale tutto che in Italia io perché giù in seconda fila però un attimo solo devo ritirare la carne no? perché tanto c'è sempre una scusa l'Italia è il paese delle scuse e non delle regole potremmo diventare il paese delle regole anziché delle scuse secondo me qualcosina potrebbe migliorare diciamo che poi tutto questo discorso clamoroso che ha fatto Ricky da tatuare viene aumentato se poi i stessi protagonisti Giuse così riprendiamo il discorso che stai facendo tu prima di chiedere scusa proprio non ne hanno non ne hanno voglia anzi addirittura ci girano intorno e quasi ti fanno sembrare il mondo un'altra cosa rispetto a quello che è le parole di Gasperini mi hanno lasciato perplesso perché dice delle cose inaccettabili e uno può dire quelle cose per due motivi uno perché è razzista e non credo che Gasperini sia razzista è uno che è nel calcio da 30 anni se lo fosse avrebbe avuto vita molto breve come allenatore e poi anche un eccellente allenatore la seconda è che un uomo di una certa età che non vuol dire che tutti quelli che hanno 65 anni sono antiquati tutt'altro però non ha voglia di cercarsi rogne con chi? con i tifosi di Atalanta una curva sicuramente importante a livello non solo acustico ma anche di presenza nella vita dell'Atalanta che né lui né la sua società che del resto non è ancora intervenuta hanno voglia di inimicarsi questo è un aspetto che non è solo dell'Atalanta di molte squadre lo sappiamo bene in Italia soprattutto e poi perché dal suo punto di vista di uomo di 65 anni che ragiona perché è portato a farlo come uno degli anni 90 o degli anni 80 quello si dice perché si è maleducati quando in realtà il mondo ma i social che possono essere tutto il contenitore di veleno che sappiamo ma anche lo stiamo vedendo anche nei commenti che arrivano in questi minuti nella nostra chat è molto gli appassionati più giovani sono molto più sensibili a questo tema dei 50 anni dei 60 anni di certi 50 anni dei 60 anni e quindi quando quella cosa lì la sostenevi negli anni 90 quando non c'era tutta questa risonanza non c'era tutta questa sensibilità veniva lasciata passare e gli episodi degli anni 90 ce li ricordiamo cose anche peggiori croci celtiche manichini venivano fatte cose vergognose molto più dei purtroppo vergognosi cori contro Vlaovic perché quello che dice Gasperini oggi è semplicemente fuori dal tempo cioè tu stai dicendo una cosa che immediatamente dopo che l'hai detta hai ricevuto una marea di insulti da tutto il mondo e questo Gasperini non lo sai e i Gasperini di questo mondo che cercano di nascondere tutto un po' sotto la sabbia perché non vogliono rogne perché non facciamo il razzismo è una cosa seria non è certo questo il razzismo lo fanno e alla fine per fortuna oggi rispetto al 92 all'87 quando si andava a San Siro e c'erano orrendi striscioni contro i napoletani di tutte e due le tifoserie oggi viene subito attaccato e viene subito sbugiardato per quello che è un modo ipocrita per cambiare discorso e nascondere un problema che esiste rubo 30 secondi alle dirette del dopo le domande del dopo nel frattempo se potete guardare nell'inquadratura generale è arrivata la pulsantina caro Mirko o malamente il comandamento non è male che si sdoppia dice Mastromele non ho visto la partita in diretta chiedo a Trevisani il tecnonista può avere un ruolo nel racconto del problema sì ma per esempio il mio amico Massimo Gallegari durante il Juventus Inter di Coppa Italia non ha sentito niente perché lì non era la situazione di Bergamo dove c'era tutta la curva era una situazione molto più limitata erano molte meno persone quindi il tecnonista che ha in cuffia la seconda voce che parla come la sentite voi un coordinatore che voi non sentite che gli parla i cori di una parte dello stadio i rumori di fondo i microfoni direzionali aperti a bordo campo è molto difficile che possa sentire bene i cori ho fatto 1400 delle cronache e rarissimamente mi è capitato anche in partite in cui succedeva ho fatto l'Inter Napoli di Coulibaly ero allo stadio e con lei Lea Dani che era con me ci siamo dati di gomito a un certo punto perché l'abbiamo sentito e nel frattempo guardavo il telefono ed erano almeno 5-6 minuti che mi erano venuti messaggi in cui gente diceva guarda che stanno facendo i buo a Coulibaly ma lì per lì tu mentre fai la telecrona devi controllare 25 cose contemporaneamente è un mestiere di una difficoltà incredibile e la maggior parte delle volte le orecchie sentono la tua voce o la voce del talent o la voce di chi ti parla al coordinamento è difficile sentire anche con perfezione i cori da casa con 70 pollici e le casse bose per tutta la parete è un pochino più semplice quindi spesso ce la si prende col teleuronista che magari compete con le vostre immagini nei replay su un 4 pollici in SD cioè non in HD cercate di avere un po' di umana comprensione perché non è semplice è una cosa che magari può venire più facile al bordo campista che lì ha meno rumori rispetto al al telecronista ad esempio Alessio De Giuseppe bordo campista di Dazon bravissimo che salutiamo fece una cosa è scarso a padel scarsissimo molto scarso a padel però bravo bravissimo a fare il suo lavoro in una partita del Napoli proprio nominò nominò esatto quello che stava succedendo e ad esempio anch'io oggi ho pensato molto a questa cosa ho pensato se mi dovesse capitare di fare un'intervista a bordo campo e sentire in maniera così forte degli insulti di questo stampo nei confronti del giocatore che sto intervistando perché io mi sono ricordato mi sono confrontato anche con Andre prima ovviamente lo ricorderai che a Bravic capito esattamente la stessa cosa in un'intervista in un'Atalanta fiorentina e con Bravic quasi in lacrima ad un certo punto io so quanto è complicato anche per il bordocampista in quel momento trovarsi lì sentire anche il peso di determinate cose però io a un certo punto nel mio piccolo pensato mi dovesse capitare probabilmente interromperei l'intervista per provare anche a dare un segnale però poi come giustamente dice Trevi succedono un miliardo di cose e non è assolutamente te ne devi accorgere te ne devi accorgere K ti parla in cuffia la gente urla è complicatissimo non è facile va bene va bene e come hai detto sono arrivate comunque le scuse anzi non tanto le scuse perché il sindaco di Bergamo Giorgio Cori si è quasi arrabbiato molto con Gasperini ha detto non voglio più che si parli della mia città in questo modo che la mia città sia famosa per questo e ha comunque condannato anche chi di fatti non ha condannato le parole di Gasperini sono state anche piuttosto piuttosto gravi anche perché lui faceva un tono anche stizzito di chi gli faceva notare una cosa e anche qui perdonami Giuseppe voglio fare i complimenti a Marco Russo che ha gestito benissimo la situazione il conduttore di Dason ha due volte incalzato Gasperini su questo ha detto quindi lei conferma che non sono razzisti questi cori Gasperini ha detto non ve la girate come volete in realtà Marco ha di nuovo insistito dicendo no no ha detto proprio questo quindi per dire che i giornalisti se hanno la possibilità se la sentono come giustamente ricordava Ricchi hanno anche modo di incidere in un modo e non bisogna essere sempre per forza degli automi assolutamente altra sentenza su questo terza e ultima sentenza ci porta oltre i confini nazionali il tridente più forte di sempre parliamo un po' di calcio perché sarebbe pure ora dopo un bel pezzo di trasmissione lo so che siamo alla vigilia di una partita in cui verosimilmente questo tridente più forte di sempre verrà mandato a casa dal Manchester City dall'attaccante più forte di sempre e dall'allenatore più forte di sempre ma secondo me se paragoniamo Benzema Vinicius e Rodrigo a qualsiasi tridente almeno che io abbia visto e di cui ho memoria negli ultimi 35 anni di calcio secondo me non perde con nessuno e mi spiego sulla base dei due tridenti che posso mettere in paragone che sono Messi e Tove Ronaldinho e Messi Suarez e Neymar secondo me quei due tridenti sono tridenti leggendari straordinari però facciamo un gioco delle figurine e mettiamo Benzema e Suarez due attaccanti del 1987 di cui uno ancora fa abbondantemente le fiamme per me è meglio Benzema e neanche di poco uno che ha vinto il Palone d'Oro a 35 anni se mettiamo Neymar e Vinicius con buona pace delle finte e degli stop aerodinamici io prendo Vinicius che c'ha solo 23 anni e ancora deve fare tanto e ha già quasi fatto più di Neymar tra cui un gol in finale di Champions League a cui Neymar non partece perché non ci arriva o se fa male prima e Rodrigo Messi vince Messi vince Messi in carrozza non c'è problema ma due terzi vincono gli altri ed è vero che la differenza tra Messi e Rodrigo è tanta non tantissima tanta Rodrigo è un giocatore di cui non parla nessuno perché gioca con Vinicius e Benzema ma è un mostro ma è un mostro è un mostro predestinato è quello che fa il gol sulla valla del sterro di Modric è quello che fa il gol nella rimonta di Siviglia è quello che fa il gol a Manchester City è quello che fa il gol in finale di Coppa Terrell l'altro giorno ne fa due Rodrigo è uno e oltre ad essere fortissimo c'ha il momento che non è una cosa banale non è una cosa banale nel calcio e quindi la somma di questi tre me li fa preferire a qualsiasi altro tridente so che verrò spernacchiato Benzema è vecchio veni sul segna poco eccetera eccetera 24 assist stagionali aperte e chiusa parentesi per il brasiliano per me Benzema purtroppo ha solo 3-4 anni di troppo perché se potessimo vedere questo tridente 5 anni questa affermazione non l'avrei fatta perché sarebbe troppo banale Giuseppe tu ne hai altri nel tuo infinito archivio mentale hai altri tridenti che possano competere di questo livello è difficile c'era sempre a Madrid anche se è durato molto poco Benzema 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 anche perché Benzema è stato ballato ha scoperto il golf ha scoperto no beh messi su Alessi Neymar anche io in questo momento anche per come dire perché li valuto tutti e tre su una carriera Neymar ancora qualche anno tu hai una carriera completa di Vinicius e Rodrigo non sappiamo ancora i limiti chissà se ne hanno ecco io Rodrigo sono d'accordo Vinicius per me è un giocatore straordinario straordinario con tutto il il lato anche un po' antipatico che può avere in Spagna non nascondono una certa antipatia verso Vinicius per me è un giocatore incredibile oltre al fatto che ha fatto un gol ai finali di Champions così ha un passano 1-0 ma non solo quello e quindi secondo me ci sta si sta messi sull'Est Neymar diciamo che è come la cronometro ciclismo sono arrivati e sono primi adesso ci sono quelli dietro che stanno andando bene e vediamo se sulla distanza da mettere con Holland magari può diventare complicata Vinicius e Holland e Salah ecco adesso vogliamo stare beh beh ce ne sono ce ne sono veramente tantissimi in chat vi state scatenando questa cosa ti giuro la volevo dire veramente da settimane perché sono pazzo di Rodrigo pazzo pazzo di Vinicius e pazzo di Benzema però mi rendo conto che non hanno tantissimo hype perché di Rodrigo non parla a nessuno perché lo copre l'altro brasiliano e c'è Benzema a pallone d'oro quindi di Rodrigo è dei tre con lo sfigato ma ne riparleremo tra dieci anni e Benzema è vecchio e quindi non ha pill per quanto abbia vinto la Champions League da protagonista e il pallone d'oro protagonista è uno e comunque ormai oggi cerchi sempre il 22-23enne che possa fare un decennio e Benzema è in là con gli anni e ragazzi Benzema gioca a calcio veramente potrebbe fare docente universitario di come si fa l'attaccante sa fare tutto di destra di sinistro di testa nell'area di rigore da fuori area i calci di rigore il carisma la leadership reggere il Real Madrid per 12 anni guarda che è una cosa che non fanno cioè anche i più forti sono la diglia da Real Madrid cioè Real Madrid tutta la vita è duro anche Raul è andato via se fai secondo sei un coglione cioè non so come dire è una pressione costante tutti i giorni Benzema è riuscito a reggere anche quella con lo scandalo della Francia che ha dovuto comunque anche per i suoi gol evidentemente subire e quindi penso che sia veramente un giocatore di cui parleremo tra 20-25-30 anni la domanda che ti faccio e che vi faccio il tridente più forte è la storia del calcio basta per andare in finale di Champions League no ho fatto la premessa apposta se non prendono una randellata quindi no davvero il Real Madrid non verrà battuto dal City verrà massacrato qui con il Basel Real qui 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 scoperto più uno al quiz su questa cosa cioè mi fai partire uno a zero se passa il City va bene ma perché dico spiegatemi le vostre fazioni sono testimone oculare Team City Team Real dell'andata dell'anno scorso terminata 4-3 per i match terziti sono diventati 27 tiri in porta e 20 erano del City era capitato anche ai quarti anche agli ottavi però al Real con PSG e Chelsea più o meno molto bene quest'anno c'è quindi se tu fai 20 tiri a 7 fai almeno 7 gol questo è e se fai 7 gol dubito che il Real Madrid abbia la stessa forza dell'anno scorso perché Benzema comunque c'ha un anno in più di rifare 5 tiri nello specchio 3 gol secondo me l'anno scorso doveva finire 7-1 per i City è finita 4-3 quest'anno se rigiocano uguale finisce 7-1 per i City Benzema e quindi mi dici che è un po' meno forte l'anno scorso mi pare un po' meno dico che solo che è impecchiato Vinicius e Rodrigo sono più Rodrigo sicuramente meglio Vinicius c'ha qualche comportamento e qualche cosina che mi disturba ogni tanto qualche atteggiamento che non mi fa impazzire ma il problema è Holland cioè la differenza tra Holland e Foden e chi giocava in attacco in quella partita è surreale nessuno praticamente surreale Marez forse non solo aggiungo una cosa che nessuno vi dirà come diceva la famosa canzone di Giandana Nini il paese delle mezze verità che tra l'altro nella puntata odierna sarebbe pure ottimo visto quello di cui abbiamo parlato non c'è Militao l'andata Militao è quello che può diciamo prendere a cazzotti Holland e rimanere in piedi dal punto di vista fisico non c'è Militao l'andata quindi Ancelotti se la deve comunque inventare è vero che giocano a Madrid chiaro che se Holland ne fa quattro non si dicevano nemmeno a discutere ovviamente però secondo me il Real ha al di là del precedente l'anno scorso che un po' peserà nella testa del Citi che li rende secondo me un po' più sospettosi e meno brillanti come il Citi spesso è nelle partite importanti penso due volte su due in semifinale con Real il Citi sì 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 e poi anche in altre circostanze con squadre anche inferiori al Real e io penso che io poi sono su queste cose sono sconservatore penso che il Real per qualche motivo che ha fatto risultati migliori dell'anno scorso ha eliminato Liverpool e Chelsea e dirà che il Chelsea è un po' allo sbando ma lì mi è puffiando di 5 pappine sotto 0-2 il massacro evocato da Runei secondo me non ha molta ragione d'essere il City certo arriva favorito ma io il Real sfavorito non lo vedo mai in una semifinale no ma non solo in una semifinale proprio in Champions League il Champions League è un contesto in cui il Real Madrid non lo puoi mettere sfavorito ma proprio per questo io ce lo metto e io che allora fai la finale di Champions League devo commentarla 10 giugno in italiana contro il Real Madrid è il sogno della vita che vuoi fare a settembre italiana contro il Real Madrid e l'occasione c'è l'occasione però se ti devo dire se tu mi dici guarda è finita 1-2 City all'andata e 4-1 City al ritorno io non mi sorprendo l'unica differenza che credo ci possa essere se il Real fa un buon risultato all'andata allora potendosela giocare in ripartenza eccetera eccetera magari esce fuori una partita diversa perché l'anno scorso era l'andata a a Manchester Stavolta invece è il ritorno è una cosa che può un pochino spostare la domanda che vi faccio io però partirò 1-0 nei quiz con pasto è contentissimo è bene perché il 22 neanche posso esserci 29 però il 29 il 5 vi assicuro va bene la domanda che vi faccio io a Inter o Milan conviene trovare chi delle due non è ancora accesa la pulsantina il Real Madrid salves il Real Madrid io penso penso due cose diverse per le due squadre io penso che a seconda dell'avversario sia meglio uno o meglio l'altro e mi spiego ok allora fermo restando che ha ragione Giuseppe cioè il Real Madrid non ti asfalta non ti asfalta e quindi il Real Madrid rimane in partita probabilmente per tutta la partita poi magari perdi 2-0 però rimane in partita abbiamo visto l'Inter giocarci contro nel giro dell'anno scorso meritare di vincere la data e perdere 1-0 con gol di Rodrigo a sorpresa e ho commentato addirittura dal vivo il ritorno al Bernabeu e se non si fa a Valdebebas no 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 era già era già a Bernabeu Valdebebas hanno prima mi presento a Valdebebas è il campo d'allenamento si si è fatto cacciare Barella con un'ingenuità colossale ma l'Inter l'ha fatto una discreta anche al Bernabeu esatto e poi ha fatto le partite con Conte non un noto europeista eppure l'ha fatta molto 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 bene questo per dire cosa per dire che secondo me l'Inter con Real Madrid se la può giocare per le caratteristiche per le qualità tecniche per tutta una serie di questioni anche tattiche in mezzo al campo l'Inter al palleggio del Real può rispondere con il suo palleggio secondo me col City fa molta più fatica e mi spiego il City è una squadra che da quando Guardiola fa calcio Guardiola ti attacca dammi la camera come direbbe il grande Funari dammi la quattro allora vedete le quattro dita guardiola ti attacca in delle zone di campo a quattro a quattro cioè mette nei quattro punti cardinali intorno al pallone un uomo ok l'Inter non ha nessuno che salta l'uomo pensa se ne può saltare un paio come devi fare per uscire da questa gabbia quando c'hai il pallone lo può fare col palleggio ma poi sempre sarà un palleggio a tornare indietro non è un palleggio ad andare avanti quindi secondo me l'Inter ha delle difficoltà grosse contro il Manchester City proprio per questa questione e perché non ha come caratteristiche dei giocatori che saltano l'uomo ce li ha il Milan cioè se il Milan riesce con Teo e con Leao soprattutto a uscire da quella situazione quando tu ne porti quattro in un luogo dietro c'è campo e ce n'è tanto se c'è uno che gli può sgasare al Manchester City è Leao o è Teo Hernandez per questo io penso che tatticamente il City vada molto meglio col Milan che con l'Inter e viceversa penso al contrario che sul palleggio della Madrid dalla fine il Milan lo batta mentre l'Inter se la possa giocare Giuseppe? Sono d'accordissimo mi stai dicendo che il City è un Napoli al quadrato per il Milan diciamo come struttura anche per l'attitudine non molto difensiva che ha sì è un aggiornamento che ci sta io penso che il Real in generale anche contro il Milan anche per Ancelotti se fosse Real Milan non sarebbe lì a infierire il Real in generale non infierirebbe il City anche col Milan soprattutto perché spesso una finale è anche una questione di inizio di approcci di mentalità il City l'imbarcata te la dà volentieri a cominciare dal suo centroavanti che vorrebbe fare 5 gol alla fine di cento non c'è mai avuto nessuno forse 4 Fuskas di Stefano nel primo Real delle 5 vittorie 5 ci credete mai nessuno stiamo già stiamo immaginando questo scenario io credo 3 Prati Milan Milan Ajax però dico tempi recenti siamo alle doppiette tempi recenti no 3 gol in Zaghi o credo ci sia stato Triplette no Triplette Prati è stato l'ultimo doppiette in Zaghi c'è stato anche Riddle con la Juventus 4 marcatori diversi in Real a Lisbona con l'Atletico 4 marcatori diversi di Maria Ronaldo Bale e Marsello Ramos al 94 di Maria forse no Ramos Ronaldo Bale e Marsello Marsello esatto incredibile ho dato io di Maria fallassi poi Bale di testo mi sono inserito io a me ragazzi perché sono come George Best nessuno avrebbe mai sentito parlare di pastore se solo avessi avuto tempo va bene lettera no no che lettera facciamo facciamo il Trevi Advisor Trevi Advisor Trevi Advisor vado via eccolo qua quando un giorno vista l'ora sta per finire uno giorno appena cominciato no vista l'ora tarda sarò sarò breve secondo me Giorgio Scalvini è il più forte difensore italiano per i prossimi dieci anni di calcio a meno che non ne venga fuori qualcuno che in questo momento non mi sento di consigliare né di conoscere e la coppia di difensore centrali della nazionale sarà Scalvini bastoni per almeno sei anni per almeno un paio di europei e un mondiale secondo me Giorgio Scalvini ha tutto a colpo di testa piede personalità d'utilità può giocare a tre a quattro difensore centrale centrocampista centrale secondo me in un paese che sta perdendo delle certezze perché prima avevamo sempre un centroavanti forte e di difensore centrali forti adesso abbiamo invece tenuto la cosa del portiere da Gianluigi a Gianluigi abbiamo una marea di centrocampisti forti qualche buona mezza punta ma stiamo perdendo un po' le cose che ci contraddistinguevano sempre secondo me Giorgio Scalvini sarà un punto di riferimento della nazionale lo è dell'Atalanta lo sarà di qualche altra squadra quando si verrà ceduto ma per me è veramente un giocatore con pochissimi limiti bisogna capire quelli caratteriali quando poi salirà il livello però per come lo vedo oggi è un giocatore veramente fantastico si oltretutto gioca in una squadra che è una specie di università per un calciatore imparare a giocare a calcio l'Atalanta ti aiuta se hai vent'anni quindi se si sono d'accordo un grandissimo prospetto a cui manca forse un po' di visibilità perché Ricky diceva sarà il centrale nazionale speriamo di solito le scelte ultimamente scelte nazionali non sono proprio oculatissime però i mezzi sono tutti è chiaramente un giocatore di cui si aspetta l'esplosione anche a livelli più alti non fa mistero spesso di voler far cassa sui suoi migliori giovani come giusto che sia temo che non lo vedremo a lungo in Italia probabilmente chiaramente se i soldi chiesti all'Atalanta saranno davvero quelli che sembrano sono 40 è complicato in Italia che una squadra anche big possa affrontare una spesa una spesa del genere mettiamo regole sistemiamo i bilanci e vedrete che in 5-10 anni torneremo a spendere i soldi pure noi se invece vengono buttati regalati procure cose eccetera eccetera non riusciremo mai ad essere arrivati a Premier League comunque ma dalle altre parti possiamo possiamo competere con gli altri determinati possiamo competere assolutamente assolutamente quello si altro difensore interessante è Dossena del Cagliari vero era un altro giocatore forte forte e prima tra i vi diceva Bastoni e Scalvini sono praticamente due giocatori nati cresciuti nell'Atalanta davvero un settore giornale clamoroso è mezzanotte giusto mezzanotte 0-2 quindi siamo soltanto due minuti in ritardo su le domande aperte dalla chat scatenatevi scatenatevi signori abbiamo un 15 minuti più in insieme e poi sarà il momento della pulsantiera che alzo come Simba nel Re Leone eccola qui poi sarà protagonista assoluta del nostro quiz si è scritta la storia la settimana scorsa vedremo se si riscriverà questa volta ho dato tanto sono stanco dopo i partiti in tre giorni non riesco vediamo 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 allora Baldanzi e Ricci al Napoli come li vedreste? beh si parla di Pietro Accardi tra i possibili sostituti di Giuntoli come detto sulle sportive sappiamo che Napoli ed Empoli hanno da sempre rapporti ottimi Zielinski e Mario Rui passando da Roma in realtà altri ce ne sono stati sicuramente sono giocatori che Spalletti potrebbe sicuramente Ricci del Torino immagino l'ex Empoli quindi che Spalletti potrebbe volentieri anche perché il Napoli manca clamorosamente la reserva di Lobotka si è visto anche ieri nel primo tempo e quindi il Napoli dovrà anche un po' puntellare un organico ottimo ma non eccezionale proprio nelle riserve in alcuni ruoli Baldanzi è uno di quelli che aspettiamo con ansia e lo vedrei bene tra Milano e Napoli Baldanzi è un giocatore che può fare tranquillamente il backup di Brahim Diaz che lo ricorda anche un po' fisicamente e a Napoli dovrebbe un po' reinventarsi nel 4-3-3 che magari poi verrà cambiato alla prossima uno Spalletti occhi per lui sono giocatori pronti non dobbiamo aspettare che come dicevamo tante volte non dobbiamo aspettare che compiano 23 anni per portare le grandi squadre ma se sono forti possono già giocare ad altissimi livelli come del resto Kvaraschelia che è un 2001 che invece fa l'invipisi al campionato senza problemi verissimo ci chiedono anche della corsa salvezza ecco secondo voi chi si salva perché si è di nuovo rimescolato tutto in quest'ultima settimana ti direi il Verona ieri ha messo un bel mattoncino anche perché anche un calendario abbastanza facile a cominciare da Verona-Torino la prossima e non aggiungo altro balneare? Verona-Torino? no balneare Romero sono sempre quelli lo Spezia mi sembra una crisi di fiducia ha preso un gol ridicolo da Cremona il primo gol inaccettabile uno scontro salvezza di quel tipo e poi è dipendente da Anzola in maniera patologica quasi tanto ma Cremonese fa solo gol così butta giù due avversari contemporaneamente e una volta solo di più eh ma perché tu sottovaluti Lecce in grande difficoltà tecnica e mentale ieri ha davvero smesso di giocare al primo minuto dopo la traversa del Verona però ha 4 punti di vantaggio Lecce e Spezia dirà molto tra due giornate e lì credo che da quella uscirà la la terza retrocessa temo che la Cremonese che si stava ringalluzzendo sabato sera con la vittoria del Verona 6 punti sono tanti debba fare un bel miracolo per salvarsi io ho visto veramente male lo Spezia però Carnesecchi migliora in campo io parlo dello Spezia diciamo nelle ultime 3 settimane non della partita specifica di Cremona dove comunque ha trovato contro un grandissimo portiere della discreta sfiga e Zola è partito dalla panchina nelle ultime magari Zola parte titolare e vediamo un bel rendimento delle ultime partite d'altro come dice Lazio-Lecce e Spezia Milan sabato che è in mezzo al derby però col turnover il tuo amato il tuo amato turnover che planerà sul picco tanto decisione se fa un punto recupera un punto a Lecce poi ce la va a giocare a Lecce con 3 punti tutto lo decide ci chiedono anche di José Mourinho voci sempre più forti su un suo possibile futuro a Parigi no no perché Parigi è bella città è bella città il famoso delirio di qualche mese fa l'unica squadra che vi dicevo migliore della Roma avrebbe potuto prendere Mourinho ma non perché faccia il veggente ma semplicemente perché le altre squadre secondo me tendono ad avere un'altra considerazione degli allenatori che possono far bene alle loro caratteristiche mentre il Paris Saint-Germain ha bisogno se vuole mixare o fixare come dice Siani un tot di giocatori forti e metterli in condizioni di essere gestiti da un allenatore che questo lo sa fare Mourinho è un'ottima soluzione bisogna vedere se poi hanno voglia di vedere la panchina che invade il campo tutti i giorni di parlare di Torpen e dei colleghi tutti i giorni eccetera 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 che è il motivo per cui fa sempre pensare che ci sia stato poco mercato per lui negli ultimi 7-8 anni c'è stata anche in Roma Inter diciamo la classica scena che citava adesso Richie addirittura anche a fine partita tra l'altro una cosa che mi ha fatto molto arrabbiare c'è stata la riunione tecnica in campo e i collaboratori di Mourinho provano a coprire le telecamere una cosa che mi ha fatto impazzire però questo ruolo da butta fuori collaboratori di Mourinho sì ma mi ha fatto impazzire perché fai una cosa del genere in campo palesemente non so qual è il messaggio ma immagino comunque siamo lì io ti vedo ho il diritto di riprenderti e venivo mani sulla telecamera una cosa tremenda io vedo una buona fede in questo è chiaro che sono atteggiamenti da fumo negli occhi così come parlare non parlavo di Mourinho in generale parlare con me di chiffi del microfono sono cose armi di distrazione di massa che Mourinho sta tirando fuori una dopo l'altra in questo momento in cui la Roma è allo stremo delle forze anche mentali però ancora parlavamo lunedì scorso la possibilità che secondo me è più facile di arrivare in Champions dall'Europa League che non dal campionato e la Roma sono convinto che farà una grande partita giovedì sera e anche in Germania però non può farla ogni tre giorni ha giocatori ormai allo stremo altri sono infortunati e quindi questi strumenti un po' retorici un po' artificiali che Mourinho tira fuori nel suo show settimanale in tutte le varie forme è anche per distrarre un po' per dire oggi decido io che parliamo di Olivieri di Cassano di Chiffi degli arbitri purché non mi facciate domande sulla sua partita per favore poi non si mette l'auricolare saluta se ne va grazie ho finito anche perché quando fai due diri in 90 minuti c'è poco da parlare della partita e quindi è tutto un aspettare la prova del fuoco che in questo caso Roma-Bayern-Leverkusen e Mourinho si è disegnato questa stagione in cui va giudicato per quello che farà dovesse vincere l'Europa League comunque avrà ragione lui avrà ragione lui lo celebreremo è giustamente chiaramente è un discorso un po' borderline ecco chiaro come vedete la Fiorentina contro il Basilea caro Andrea Gonzales in televisione beh ma che in chiaro loro no in chiaro l'Europa League e la Champions League perché non è di interesse nazionale per il momento no diciamo che ancora effettivamente ci va in finale di conference la Fiorentina Ricci mi aspetto che ci vada perché come vi diciamo sempre da quando abbiamo cominciato questo spazio la Fiorentina ha un'ottima squadra e un ottimo allenatore se dovesse succedere alla Roma la Fiorentina ci direbbe due cose che il campo italiano in quella fascia è di ottimo livello cioè dal settimo posto eccetera quindi tutto quello ci ha raccontato Igor Tudor qualche settimana fa sull'equipe non è assolutamente vero e soprattutto che comunque la Coppa ha quel tipo di di tenore e quindi va giustamente considerata che se vanno quelle squadre lì su quelle squadre lì l'Italia è molto forte come è stata in Champions per tanti anni o in Coppola per tanti anni diventa una Coppa in cui siamo molto forti noi speriamo ovviamente che oltre a mettere il nome nell'Albodoro della Conference League possano metterlo Roma o Juve in Europa League e Inter o Milan in Champions League certamente assolutamente sì e allora altre domande ragazzi come siete come al solito tantissimi ma di Roma Leverkusen altro commento che ci chiedono il pronostico cosa ne pensate per me vince la Roma all'andata ok la Roma non è in un grandissimo momento rispetto a quello che leggete potrebbe recuperare il Sharawi per il ritorno mentre inizialmente sembrava che potesse tornare non prima della Salernitana che successivamente alla partita di ritorno di Leverkusen e il Sharawi in questo momento in cui Velotti e Abram vedono la porta grande come una buca da golf per metterci un pallone da calcio quindi fanno fatica a segnare avere uno come il Sharawi e magari recuperare anche la mia condizione di Dybala può essere fondamentale secondo me il Bayer Leverkusen c'è un grande allenatore abbiamo parlato anche di questo di Sharawi Alonso ho visto con sconcerto la partita contro il Colone dell'altro giorno non so se hanno tutta la capoccia a Roma a Bayer Leverkusen anche loro però hanno giocato di venerdì mi pare a sei giorni da Roma a Bayer Leverkusen con la formazione praticamente titolare mi è sembrata una sconfitta indecorosa per il Bayern non è che non ha vinto ha fatto 0 a 0 ha fatto 1 a 2 un po' perché in Germania attaccano tutti anche le piccole un po' perché ovviamente il livello della squadra è inferiore a quello della Roma c'è rosa su rosa la Roma è meglio da Bayer Leverkusen certo certo altra domanda ci chiedono Ricky che fine ha fatto l'Oriente ciò che chiedevamo prima anche io e Pastor guardando da quando si è streccinato da quando ha fatto i capelli come Sanzone no l'opposto l'opposto ha sciolto i capelli scioglie le trecce e l'Oriente non balla più si è un po' incubito anche il Sassuolo ha fatto una stagione a parte qualche classico acuto con le grandi non indimenticabile è una stagione che è il classico inter-Sassuolo domenica dove vincono a San Siro come hanno vinto a Roma come hanno vinto a San Siro hanno rotto le scatole a tutte le big hanno vinto a Juventus hanno sempre rotto però nel complesso poi anche per la forzata assenza lunga di Berardi non sono stati la solita squadra spettacolare che ci erano abituati tra l'altro con il triennio di De Zerbi che oggi ha perso incredibilmente 5-1 in casa contro l'Everton diciamo che la rosa del Bryton tanti allenatori si mettono la rosa del Bryton è cortina anziché no cioè il paraguayano di cui parlavo lunedì nell'advisor un ragazzo di 20 anni che ha 10 presenze in premio 2004 addirittura cioè hanno giocato l'FA Cup fino alla semifinale hanno giocato un miliardo di partite stanno ancora recuperando partite proprio per l'FA Cup ora il Bryton ne ha 33 chi è davanti ne ha 35 quindi il Bryton ne mancano ancora due è chiaro che stanno un po' col fiato corto certo 5-1 con l'Everton è abbastanza incomprensibile vedevo che ha fatto più expected goals il Bryton dell'Everton pur avendo perso 5-1 non ho visto la partita però immagino diciamo che avendo preso goal il primo minuto dopo un curé probabilmente la partita è un po' saltata quindi il Bryton ha attaccato di più con frenesia ha preso altri gol in ripartenza poi non l'ho vista perché come ho detto era un evento poi ci chiedono anche di leggere un po' di YouTube lo sto facendo assolutamente sono anche uno YouTuber insieme a voi mi sa che ti sveglio stanotte per l'NBA si sveglia una cosa che ritrovo molto offensiva la risposta è sì certo che sto sveglio perché gioca ragazzi un signore che può segnare da centrocampo da tre quindi lo starò lo starò a guardare prima ti ho fatto una chiamata detto giocatore clutch tipico dell'NBA giocatore che segnano nei minuti decisivi ma è una cosa che parlo volentieri perché su questa serie si perde 4-2 va bene va bene va bene allora ultime domande perché tra un po' dobbiamo partire con il quiz visto che ci avete anche chiesto del quiz la perdiamo sta serie la perdiamo allora vi devo trovare una domanda che non avete già fatto perché Allegri va riconfermato Antonio 97 siamo già espresso tu sì penso che abbia un contratto importante e che da quello si dovrà passare per la prossima tenera di Juve l'arrivo di eventuale di un direttore sportivo come Giuntoli Allegri sappiamo che ne preferiva un altro da quello che si leggeva cioè Rossi del Sassuolo potrebbe portare a ulteriori valutazioni non lo so io credo che il contratto di Allegri sia comunque molto oneroso e poi comunque secondo classifica nella nella sua bilancia mettiamo in pro e contro Allegri può dire va bene sì non abbiamo fatto una gran stagione però ti porto un secondo e poi vediamo come va l'Europa League una domanda interessante di The King e FT17 se vanno via Spalletti e Giuntoli chi prendereste per sostituirli avete dei nomi italiano e Accardi e anche tu italiano? sì secondo me per come gioca italiano dovrebbe andare in una squadra dove deve iniziarlo un lavoro non proseguirlo questo è vero quindi più alla Juve che al Napoli però a quel punto è difficile venire dopo Spalletti a Napoli assolutamente però dovresti prendere uno che ha l'intelligenza di tenersi quello che già c'è e fare poco cioè uno degli allenatori che non mi piacciono cioè un conservatore uno che si mette lì e prosegue nemmeno in mente tra l'altro quindi non saprete andare un luogo fuori all'estero non sono stranieri non è facile ultima domanda ultima domanda l'avevo trovata eccola qui 99 Pirate l'Arsenal vince o no la Premier? no è andata? quanto mai quanto mai dice Giuseppe Pastore la verità la vittoria di Newcastle un pochino mi ha fatto pensare che ancora non è suonata la campana perché come Rocky Apollo ma perché ragazzi non vincere due partite è il City e non lo so certo anche due pareggi vanno bene mi sa può darsi sì sì due pareggi vanno bene perché arriverebbero a pari punti ma la differenza è nettamente superiore da quella del Manchester City ah ok allora è andata diventa complicato no dico era la classica partita quella di Newcastle per mandare tutto in bacca invece la l'Arsenal ha fatto una partita molto seria molto seria e quindi mi è piaciuto all'interno del percorso di crescita che pur avendolo quasi perso siano andati sul campo di una squadra che è tosta forse Newcastle è tosto proprio giocarci contro è fastidioso è una squadra cattiva a casa loro tutto il resto ha vinto 2 a 0 un carrozzo ciao forse hanno giocato così perché non hanno pura ansia questo è il rovescio della medaglia è tutto lì allora signori siete 3.000 sommando tutti tutti gli amici che ci seguono e allora direi che siete abbastanza per partire con giù i tablet giù i tablet giù i tablet ho tolto i commenti eccolo ti tolgo io dai 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 grazie oh no ho tolto tutto rotazione intelligente glamorosa aspetta eccolo qui ci sia se lo vuoi farlo non lo facciamo è incredibile hai sentito trash talking a proposito in stile NBA trash talking vero e proprio io pensavo di perdere peggio quelle che ho perso e mai di vincere quindi sono già in overbooking signori stiamo per partire con i ring prova pulsanti allora Riccardo Trevisani è il numero 3 io 1 è numero 1 9-9 Giuseppe Pastore mettiamo il 2 dove è il 2 non lo so però è 3-1 non è che è tutto a caso non è che è tutto a caso allora siamo pronti caro Andrea Gonzales per partire con il quiz è sempre sulla stessa falsariga delle altre domande sull'weekend gira di verso sinistra non sono domande sull'weekend sono domande derby in generale ciao ma dai che sta fatto lo speciale sul derby domande derby tutti derby tutti derby non solo Milan Inter non solo Milan Inter non sono domande recenti quindi io mi mi nevo gli occhiali no 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 tieni sul tavolo dai secondo me viene fuori e gioca gioca brutte per gioca riccardo mani avanti tra i risai mamma mia mamma mia pronti a partire diciamo solo con quel format era andata bene ma è il dry che ti diverti anche è colpa di Nandosiani e di Lorenzo Gregorio la famosa tecnica del pianto si scrivono su effettivamente sul tubo tutti pronti? vai benissimo prova pulsante l'abbiamo già fatta si già fatta benissimo 8 maggio 2011 quindi non oggi questa è l'unica domanda che non ho fatto io 12 anni fa Genoa Sampdoria 2 a 1 la decide Boselli all'ultimo secondo e condanna praticamente la Sampa alla retrocessione chi segna per i blu cerchiati? Giuseppe Pastore Nicola Pozzi avete fatto una domanda su una cosa su cui Pastore ha twittato 6 ore fa complimenti l'unica domanda che non ho fatto io complimenti e neanche io se proprio vogliamo e direi in dire tutta colpa di Greg c'è un tweet di Pastore sull'argomento tra l'altro insultato è una a zero l'altro lo hai letto a te lo hai letto il tweet ci spotte la cosa della Sampa chi? chi ci spotte? no ma non volevo prendere la Sampa ma non era non era presa in giro ma per dirvi c'è che vuoi capire 12 anni fa non posso competere secondo voi intanto ragazzi punti faccio i gioia telecronica ma non posso competere 12 giorni fa non avete capito allora vediamo questa vediamo la prossima seconda domanda Milan-Inter 5 a 0 stagione 97-98 siamo in Coppa Italia chi segna il gol numero 5 Steiner Nielsen Norvegia 2 a 0 secondo me siamo degli squilibrati è un po' come quei concorrenti di Sarabanda che dicevano anche l'album come l'album si si che non gli vede in Norvegia volevi aspettare sapevi che era Nils seconda domanda fatta su una persona diretta 2 a 0 vediamo 2 a 0 Milan-Inter invece finisce 1 a 1 nel 2014 2015 pareggia Joel Obi ricordate il suo numero di maglia ecco tiro io a caso 17 no no opportunità per Trevi io c'ho un dubbio non ho minimamente certezze mi sembra oh dio santo Joel Obi qui all'Inter non è che abbia giocato molto per fotografarlo la chat è nascosta vero ragazzi la chat è nascosta la chat ha indovinato esatto quello volevo dire dai diamo un po' di tempo io inizio al 2 dai prenotati 26 no la risposta giusta era 20 e bravi a chi in chat c'è scritto pure sullo schermo 20 esatto tu inizia col 2 sembrava che ce l'ha scritto sulla mano col 2 era pari però fino al 20 non so 19 marzo 2008 Lazio-Roma finisce 3 a 2 la decide Beirami al minuto numero 90 chi è l'arbitro di quella partita Riccardo Morganti di mezzo allo svantaggio 2 vabbè dai vabbè dai l'arbitro in 2008 due domande pro non ha fatto se mi va bene mantenevo i vantaggi non è pro nessuno sicuramente più pro te che pro me però posso dire l'arbitro è un derby il 2008 così fa mi ha fatto guai mi ha fatto guai quella partita secondo me è clamoroso questo coniglio dal cilio lo dice anche in chat clamoroso effettivamente è clamoroso prossima domanda con quale squadra brasiliana a 13 anni Enrique Mkhitaryan sostiene un provino eh sì ah il derby Riccardo Dove vi sanno beh chiaramente è la Fluminense no no Santos no Flamengo quando ha iniziato con l'FL ha detto ignoravo totalmente anch'io però in realtà credo che ti abbiano scritto male la risposta perché era San Paolo a me avevano scritto Flamengo eh ho sbagliato San Paolo ecco Lorenzo Gregori dove sei? San Paolo meno male meno male c'è un giocatore presente in una delle due rose di Inter e Milan che era presente anche nelle rose di Inter e Milan dell'ultimo derby di Champions Flamengo Lorenzo Gregori e la scrittura delle domande dei quiz sono un po' così l'avete capita? vogliamo ripetere ok ah nelle rose nelle rose nelle rose attuali di Inter e Milan nelle rose attuali di Inter e Milan c'è un giocatore che era presente anche nelle rose attuali dell'ultimo derby di Champions League ancora Trevisani Dida oh nella rosa attuale nella rosa attuale ci sta Dida nel Milan Dida nel Milan nella rosa attuale ma nella rosa c'è un calciatore che sta giocando? sì è presente oddio non gioca non gioca vabbè dai eh vabbè dai si è prenotato il pastore Cordas esatto 3 a 1 pastor vabbè dai dai avete spiegato la domanda dopo era chiara la domanda era chiara la domanda era chiara chi segna oltre a Fabio Quagliarella nell'ultimo derby di Torino vinto dal Toro contro la Juve pastore 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 ah via hai nominato ma la so pure io questa Giuda e Giuseppe pastore se ne va detto questo nel nuovo millennio chi sono gli unici due giocatori ad aver segnato nel derby di Roma con entrambe le maglie quindi sia Roma che Lazio due giocatori sì solo due giocatori anzi nel nuovo millennio coloro per Pedro esatto 4 a 2 mancava Pedro dai mancava Pedro non ho state tutto ci sono tutti ci sono ancora due domande il risultato è 4 a 2 quindi potresti pareggiare va bene schielotto indossa la maglia numero 7 ereditandola da un giocatore brasiliano che va via durante il mercato di gennaio siamo ovviamente nell'ambito dell'Inter di chi stiamo parlando oddio lo so aiuto come si chiama eh dai come si chiama neanche tu ce l'hai nessuno ha accolto la città vabbè come si chiama come si chiama non è buon figlio possiamo spoiler non è difficilissimo ma lo so perciò te lo dico che lo so è che non pastore non è lui eh Hernanes no no non era ancora arrivato no giocatore brasiliano va via durante il mercato di gennaio ricordo anche la faccia ma non mi ricordo il nome no ma davvero giuda è facile ragazzi è facile anche perché poi tre virosi che era un sacco eh lo so perché perché ci ho disegnato c'è proprio la fisiognomica ma non mi viene il nome guardate che è difficile ah è un giocatore brasiliano che va via a gennaio 10 secondi 10 9 8 7 6 5 che tilt 4 3 2 1 finito Filippo Coutinho 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 quindi ultima domanda che a questo punto diventa pleonastica in quale partita e di quale stagione Mauro Riccardi segna il suo primo gol in seria Richi Sampdoria Inter no no Sampdoria Genoa 12-13 giusto allenatore Ferrara finisce 5-2 allenatore Ferrara quindi diciamo che vince pastore ritorna sulla terra dopo bravi tutti bravi tutti farli più vecchie le domande dai non erano le domande 97 però ha indovinato le più difficili bella bella chiamata ha indovinato le più difficili posso dire hai indovinato Morganti che era impossibile Morganti era impossibile l'altra che ha indovinato qual era Pedro ah che non era a sorpresa ha tornato quello sul derby di Roma Coutinho la potevi indovinare si potevi indovinare Cordaz Cordaz l'ho capito dopo se no le risposte è Darmian pure è Darmian e ti ha fregato Giuse sul tema la domanda che vi avrei fatto io in caso di spareggio anzi in caso di spareggio pro Ricchi quindi se avessi voluto più bene a Ricchi le avrei chiesto il numero di maglia di Mauro Riccardi quando segna nel derby di Genova 99? no fai rispondere non la so vado a memoria 90 o 99 non so sicuro 90 anche a me io dico 99 99 non è la risposta esatta è andata così manco 90? manco 90 però ci siete 91? no eh no 98 98 98 e invece no non manco non lo di nascita il 93 no no il 98 è totalmente rando totalmente rando e invece se avessi voluto più bene a Giuse gli avrei chiesto contro quale squadra segna il primo gol in Italia Mauro Riccardi Pescara in Westabbia ah in Italia giusto 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 quindi la domanda eh sì avresti la commentavo la commentavo la commentavo e non ho visto il gol perché si è sentito male una persona allo stadio cavolo e stavo seguendo la barella che lo portava e c'è tutto alzato la testa c'era la palla in porta ho detto Icardi a caso hai sparato Icardi no l'ho immaginato c'è un'intervista da barella Icardi su quel divano però l'avevi detto di un altro giocatore anche di Icardi due volte una su Icardi e una su Floro Flores in un diretta gol di Perugia qualcosa nel 2004-2005 ovviamente la regia stacca su una parata di Mazzantini e quando tornano in diretta c'è un mucchio che abbraccia uno e io faccio il boato del Curi perché ero a Milano a Cologna e dico mentre intanto il Perugia va in vantaggio staccano live e io Floro Flores ho visto un ciuffo biondo in mezzo al casino e ho detto Floro Flores ed era Floro Flores ed è una cosa che mi ha aiutato a fare strada perché chi l'ha vista poi l'ha detta ai direttori è successa questa roba qua e poi ho fatto quindi è tutto merito di Antonio Floro Flores è tutto merito che retroscena clamorosa che viene fuori da questo quiz sì sì vuoi la giornata ma in realtà non so se state vedendo sulla chat che stanno chiedendo scegliendo loro quindi io lascerei scegliendo loro vai vai momento random è stato il ciuffo di Floro Flores momento random momento random quello che vuoi vado io scelgo io ho fallito che range mi dai dal 94 95 quindi ce n'è una fuori in fai dai non andiamo fino non lo so no dai facciamo al 2016 vabbè quella del 28 agosto 2005 mi sembra interessante 28 agosto 2005 qui sto leggendo sulla chat io sul tubo propongono 28 agosto 2005 scegliete voi lasciamo scegliere il buono allora arrivo 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 vent'anni fa tacci vostri di chi ci segue però mi servono anche i marcatori ovviamente sono un vale allora allora seria facciamo stagione 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 3-4 o l'abbiamo fatta l'altra volta no allora facciamo 11-12 vai va bene pensavo fosse quella facciamo quella perché ti sei già concentrato su quello qui mi dicono giuliano castiglia propone 17esima giornata 98-99 aspetta allora 17esima giornata non troverai mai il tabellino eh dice con i gol seria 98 99 no 17esima ce le ho tutte c'è i marcatori? no ok va bene va bene cominciamo parti vai dovrei averceli anch'io voglio vederlo prima di dire i marcatori fammi pensare a meno se ricordo la partita farma Lazio 1-3 corretto col di tacco di Mancini col di tacco di Mancini e altri marcatori allora Salas ieri giusto per il Parma ah Crespo bravo sto già sentendo abbastanza male Milan-Perugia 2-1 il cartone il cartone di Rossi ok Bucchi giulina di Nakata per il Perugia per il Milan-Biro Feguglielmi in Pietro giusto Bologna-Inter 2-0 si bravo signori si e un altro non lui non doppietta signori è una fontolan non è così chi se no chi se no è un fontolino gol dell'ex Venezia-Juve 1-1 Venezia-Juve 1-1 giusto vabbè ma cazzo sei fortissimo Giusto no 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 aspetta non è fosse si no vedone vedone vici novelline no e no ir Roma ieso Roma aspetta Roma Vicenza c'abbè tu ce l'hai eh Roma Vicenza 2-2 no not però è un'anno prima quello quindi Roma Vicenza aspetta però secondo me non vince la Roma 1 a 1 tu che dici? Roma-Vicenza 98-99 ultima di andata io ho 98-98 2 a 2 abito Graziano Cesari mio caro amico Roma-Vicenza dell'anno dopo quindi perché si la maglia era quella sì dico 1 a 1 ma non sono sicuro non è 1 a 1 allora ok allora vince la Roma vince la Roma esatto allora sì perché io sono in confusione con un altro Roma-Vicenza segna del vecchio? allora un attimo quando? invece la Roma-Vicenza? sì segna del vecchio a che cosa me la ricordavo? segna del vecchio su Assis di Cafu segna 3 italiani 2 a 1 quindi no 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 3 3 3 3 a niente 3 a 0 ma va non me la ricordavo però bastava ricordare Totti del vecchio no del vecchio di Francesco giusto di Francesco del vecchio di Biagio no uno difficile sì o Masi? no del vecchio di Francesco Gautieri bravo Carminello Gautieri bravo andiamo avanti che ti manca? Pari Sampdoria 3 a 1 corretto Reti D Gaetano De Rosa giusto Filma Zing giusto il terzo Ambrotta no Olivares Olivares giusto chi è Olivares è della Samp chi segna fammi volare difficile fino a che anno è programmato pastore di Celano e Martino è difficile Legle Legle Pier Legle non se ne ha mai Pier Legle no no sto malissimo Giori tira Cagliari 4 a 2 giusto tripletta di Battistuta e gol di Edmundo Battistuta Battistuta Edmundo bravo è campione inverno Nel Cagliari non esiste Olivares non esiste Olivares fammi volare difficili De Patre è uno è Fabiano O'Neill è Fabiano O'Neill è Fabiano O'Neill esatto però De Patre mancano due De Patre brutta chiamata De Patre De Patre è bug De Patre anche De Patre non esiste è come Bilica di Ancora Mancano due partite mancano due partite l'Udinese esatto esatto in casa esatto esatto allora aspetta le squadre che mancano sono Udinese sì la Salernità la che fa 1 a 1 col Piacenza bravo presi rigore sì Cosa Piacenza Piacenza chi segna? Castelli no Piovani no Luiso no di Napoli no dai dai un allenatore si vuole Inzaghi no è un allenatore è un allenatore omonimo allenatore omonimo allenatore omonimo di chi? è di un dell'attuale allenatore che inseriamo è un allenatore anche lui oddio anzi no ho sbagliato scusate ho detto una scemenza sono nomi che si somigliano però ho detto una scemenza sono nomi che si somigliano mi ha dato una confusione cambia una consonante cambia una consonante cambia una consonante indaghi dai dai gli attaccati gli attaccati gli alleatori della serie A chi sono? gli attaccati gli attaccati Gasperoni no non è Gasperoni la consonante serri la consonante la consonante par no maurigno alleatori della serie A paurigno no dai 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 neanche in chat hanno indovinato sortil no continua continua però sei quasi quella zona lì Ivaliano no quella zona lì che ho capito ho capito ho capito ce l'hai? no non c'è il nome ho capito la zona è che senso metà classifica ah metà classifica Dionigi Dionigi bravo eccolo lì Dionisi Dionigi Udinese l'ultima ti manca l'udinese vi dico anche l'altra squadra se mi fate pensare Venezia no no già l'interviene non è detta il Caglia l'abbiamo già detta l'Inter l'abbiamo già detta il ti dico una cosa l'Empoli bravo bravo 0 a 0 perché siccome non non se la ricordo se non la sola è 0 a 0 anche oggi abbiamo fatto la storia se non la sola è 0 a 0 facciamo almeno un'altra facciamo un'altra facciamo un'altra sì almeno più recente una più recente una più recente e va 2008-2009 va bene o ancora di più 13-14 no vabbè facciamo così facciamo ok 15-16 basta ho deciso più di così non posso andare scegliete però voi la giornata dite un numero dai scegliete voi la giornata serie A15-16 dite un nome 3 mi controlla che non abbia i bigliettini di più vicino è più vicino 14esima 15-16 14esima arrivo allora un attimo datemi il tempo presenta l'archivio aspetta giornata giornata 15-16 allora 14esima 15-16 vuol dire che un attimo potrei eserci ok potrei un attimo hai detto 15 14 no 14esima giornata 15-16 15-16 no 15 abbiamo detto 15-16 ok 15esima giornata 15-16 15esima sì 14esima giornata 15-16 allora scusate calmi calmi risettiamo 14 una vocale ce l'avevo ce l'avevo già prima un attimo 14esima il demone qui sta computando allora 14esima giornata 15-16 pastore è mio padre ho bisogno ho bisogno ho bisogno però di avere il sito potrei sbagliare già la prima no 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 ora comprendo il senso di il signore il mio pastore è così e nulla mi farà allora 14esima giornata ce l'ho dai vi prego mettete un anno in cui non c'è oliva juve milano 1-0 piano no allora vedi già ho sbagliato hai sbagliato umano ragazzi 14esima giornata non è o juve milano 1-0 e allora è quella dopo juve milano 1-0 era la giornata prima te lo confermo io allora è milano sampdoria 4-1 confermo confermo aspetta ho bisogno dei marcatori ed air per la sampdoria corretto per il milan doppietta di nianche corretto caffè o la ventura giusto l'ultimo gol chi lo fa luiz adriano rigore e quindi la prima l'abbiamo presa c'è samp chi era ed era ok prossima partita allora si fa prima a dir la pari del risultato che sennò ovviamente va bene prossima partita la partita no tu mi dice la pari del risultato ah no perché devo dire la partita non ci arrivi sei in difficoltà è lunga vabbè ti dico faccio la riuscita ce l'ho se mi dalle in casa l'interno palermo juve 0 a 1 no palermo juve è giusto palermo juve 0 a 3 gol di ok allora ok adesso adesso ce l'ho ce l'hai tutta la giornata forse ti spiego il motivo ok palermo juve 0 a 3 gol di palermo juve morata no no ma te l'hanno prima se è vero morata fa gol 0 a 1 l'anno prima da fuori area 14 15 0 a 3 Zaza bravo ce l'hai Ricky sto pensando Zaza è 1 poi la mi sconvolto il punteggio che è sempre 0 a 1 0 a 2 0 a 3 non ce l'è Licksteiner no uno non segnava non segna mai uno di quelli che ha segnato eh Bonucci no qualche volta era una domenica sera questa partita domenica sera corretto ero in turno a Sky Sky Sport 24 e Zaza sicuramente gli altri due sarà Mandzukic uno giusto ok ma mi manca l'ultimo che non segna mai no e allora sarà stato eh sarà stato ce l'hai sarà stato Padoin no no gioca gioca ancora ancora in attività Sturaro Sturaro corretto altra partita ce l'hai Napoli Inter corretto si allenatore Napoli Sarri primo anno in 3 a 0 no scusami che sto dicendo l'anno dopo è 3 a 0 chiedo scusa scusa 2 a 1 doppietto di Guain giusto e gol dell'Inter quando piglia palo finale doppio palo Golden l'Inter un classico Ademli Aitch corretto ok classico classico giusto Sassuolo Fiorentina 1 a 1 giusto Borja Valero bravo che è nato insegna mai mai Sassuolo Babacarardi no no ma uno che segnava del Sassuolo fa gol un giocatore eterno mi viene da dire insomma che ha giocato veramente tanto Matri no 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 Floro Flores no Di Vrelle no ah Magnanelli no 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 è vero sarà un attaccante 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 oddio mi manca ah è uno buon giocatore ah nel senso che ha fatto tanta serie A floccari floccari ah già Roma 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 aspetta vediamo se l'Italia Atalanta ah ce l'hai risultato in Roma Atalanta Roma Atalanta 15-16 si 15-16 eh si 15-16 15-16 era in panchina Rudy Garzia eh si che ha fatto 13-14 14-15 15-16 però 14-16 stava andando male la situazione stava andando male anche quello dopo anche peggio stava per essere defenestrato eh già Rudy Garzia c'era qualsiasi cosa questo ricordo sempre turno a skyline turno sempre di notte no era pomeriggio le tre pomeriggio perché potrei averla commentata però dice qualsiasi cosa quindi no però tante cose tante situazioni tante situazioni non ricordo 0-2 bravo ah in dieci si espulso Deron no non c'era Deron allora espulso l'Atalanta è espulso uno però allora tre espulsi ci sono che finale uno è la Roma e due è l'Atalanta sicuramente il Papu Gomez si e l'altro sarà e l'altro però se giri il microfono diventa complicato occhio occhio l'altro è un Papu Gomez e l'altro è Hermann Deniz chiaramente Hermann Deniz avete gli espulsi volete stupirmi no non ce la fate gli espulsi espulsi non mi ricordo l'Espulso della Roma ce l'hai Ricky grande giocatore De Rossi no grande giocatore non alla Roma mi è da dire vabbè Maicon è nell'Atalanta non lo spusti Stendardo e Grassi vabbè andiamo avanti niente male allora dunque Torino Bologna si di cui non ricordo il risultato vince il Torino si Belotti giusto ma il risultato ci arriva arrivare dal marcatore Belotti 2 a 1 2 a 0 si è un altro Belotti è un nome simpatico un nome simpatico un altro non segnava mai Meggiorino no 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 segnava mai 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 allora è simpatico di Cesare no no questo sinceramente non lo so non arriva Glick no Glick segnava no però ho pensato anch'io a Gazzi bravo Giuseppe bravo che giocata Sulchi Vives Torino Bologna abbiamo detto il Napoli abbiamo detto l'Inter abbiamo detto la Juve abbiamo detto la Roma abbiamo detto la Lazio non abbiamo detto non l'hai detto e la Lazio giocava fuori casa non segnava mai una scritta Ebram comunque siete dei geni ragazzi chi si vuole bene ma chi è Vives scrive papappero Lazio quindi iniziano a scarseggiare i ricordi Lazio Lazio che hai detto che perde Lazio che giocava in trasferta e perde con l'Empoli ah 1 a 0 giusto gol di Tonelli vedi vedi questa è la domenica 18 stesso turno è la domenica 18 che cosa ti manca? tre partite di cui però adesso non ricordo il dai cosa ti manca? Mio Dio la fiorentina abbiamo detto Olivares l'Udinese l'Udinese non l'abbiamo detto l'Udinese non l'abbiamo detto il Verona neanche l'abbiamo detto il il Bologna Blue Tiger l'abbiamo detto il Bologna l'abbiamo detto ah certo certo Carpi Verona 0 a 0 no 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 non è uno 0 a 0 Carpi Verona però ti manca anche il Carpi ma non è Carpi Verona la partita non è Carpi Verona ah no hai ragione scusami Carpi Frosinone no no è Frosinone Verona 0 a 0 no 2 a 2 no 2 a 0 no crash 2 a 1 crash no no si è rotto pastore 1 a 1 1 a 2 no no 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 è impossibile marcatori Viviani bravo recupera subito il gol dell'ex del futuro il gol dell'ex del futuro poi le frosioni classici marcatori Ciofani 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 con lo stile lì di giocatore secondo me con lo stile lì un centrocampista no non è un centrocampista è balcanico no oddio non è balcanico è centrocampista che c'entra con Ionizza no sono con i giocatori così capito da bassa classifica esatto sì ah ok un ragazzo in chat l'ha indovinato Ionizza no l'ho letto Vaghelis esatto ma Moras ce l'avevo ce l'avevo cosa manca e sei più forte sul più vecchio il carpi ti manca il carpi l'udinese e quindi il carpi in trasferta evidentemente il carpi in trasferta no 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 eh no perché quella era l'ultima giornata carpi udinese se parla un domandone di Don Salves dei tuoi genoa manca carpi genoa carpi no genoa carpi uno a due bravo borriello bravo zaccardo bravo non ricordo questo o genoa chi segna il classico nome se lo dici mi fa impazzire oddio ma in vantaggio il genoa si ma in vantaggio il genoa all'ottavo eh poi rimane in dieci il carpi e vince il carpi vince il carpi non è italiano non è italiano il classico il regolatore del genoa non è vero si allora se lo indovini giuro non vengo lunedì ha ragione non vengo mi sa neanche io non vengo se lo indovini non vengo se lo indovini questo non vengo giuro lo fai da solo lunedì lo fai da solo la fantasma torno alla scena ero in macchina che stavo andando a sky eh sì perché avevo il turno alle 4 e quindi ero il primo tempo genoa in vantaggio arriva secondo te no non può arrivare non può arrivare non esiste è straniero comunque è straniero giocatore centropista attaccante non è una prima punta ma è un giocatore che non esiste io non ricordavo di essere giocato in serie è un giocatore che non esiste è un giocatore che non esiste ma sarà Tino Costa no Diego Cappello no ti arrendi no no Figueiras vabbè hai preservato hai preservato la montagna di tre ti manca l'ultima ti manca l'ultima ti manca l'ultima è Udinese dai dai una squadra no no una squadra famosa che non c'è più 2 a 0 non c'è più questa squadra Chievo si Mollavaghe no fa lui no 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 non fa col Mollavaghe un'altra partita Mollavaghe 2 a 0 Udinese Chievo no 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 Chievo Udinese ah scusami Chievo Udinese dai teniamo buono anche sui risultati fattibili 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 1 a 1 classico Chievo una partita piena di gol piena di gol piena di gol 2 a 2 quasi 3 a 3 togliene 1 2 a 3 2 a 3 marcatori esatto marcatori facili classici pure qui ah terò bravo ma dove gioca nell'udinese nell'udinese no vabbè non ce l'hai Danilo no no due terò vabbè dai non lo puoi sapere due terò un autogol di Nicolas Frey e nel Chievo ce l'hai con il Chievo Bobby inglese esatto e l'eterno under 21 Paloschi esatto vabbè partita che non ricordavo la cosa che trovo assolutamente incredibile che sul 97 vai meglio su 2000 ma sul 97 è stata una macchina ma è incredibile era anche l'ultima di andata quindi più facile me la so ricordata a questo a un certo punto perché al ritorno mi trovavo in vacanza a Buenos Aires e quindi in video ogni tanto c'è le partite mi associavo all'andata 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 tipo Inter Napoli era l'era in Argentina purtroppo Gonzales vuole andare a dormire perché io continuerai perdere le ore lo vedo devastato però dai Ricky posso dire un arbitro nelle Romane una pronta per Ricky Roma-Juventus 2007-2008 eh dai tabellino e arbitro 7-8 7-8 si giocava al 23 settembre e poi facciamo come Cvarazchelia dopo il gol con Napoli-Verona partita che segna la fine della carriera di Juventina di un giocatore Mimmo Criscito 2-2 giusto bravo segna Totti bravo e non vorrei dire che risegna Totti un'altra volta sì 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 giusto nella Juve chi segna? nella Juve segna il 2-2 Iaquinta bravo sì l'1-0 sì lo 0-1 mi ricordo pure il gol e c'è anche qualcuno che sbaglia un rigore esatto c'è anche qualcuno che sbaglia un rigore bravo il gol sotto la sud segna la Juve con la maglia blu bravo la girata di chi del classico giocatore che sapeva tecnico Davide Treseghe bravo proprio lui e l'arbitro Emilio Morganti bravo ma come fai con gli arbitri? è sempre è una tua perversione molto facile perché lui inverte la rimessa laterale per controfallo di Sissigno è vero e viene battuta da Chiellini che fa un cross Iaquinta segna e finisce 2-2 quindi era stato tra virgolette protagonista quindi era stato più facile di ricordare dell'altra volta del derby del 3-2 di Berami vero per un evento tristissimo Andrade infortunio gravissimo ultima gara in carriera di Andrade e anche di Griscito che viene scherzato da Totti da centrale esatto ed esce al 45esimo per le grottaglie che bella chiamata che mi hai fatto bella chiamata io posso dire allora io ovviamente su Giuseo ormai non c'è più nulla da dire perché è incredibile però la tua conoscenza degli arbitri secondo me è una è una branca anche questa delle perversioni come si fa garanzi gli arbitri per me è impossibile l'arbitro proprio se vabbè buonanotte se vabbè buonanotte ragazzi devo tenermi in forma perché questo questo demone facciamo l'ultimissima l'ultima e faccio un'ultima romana si è tutti in gioco vai un'ultima romana un'ultima romana qual è l'ultima romana vi faccio Roma Inter eh vabbè non va bene è facile Roma Inter della stagione 11-12 si Roma Inter 12 quindi 4-0 bravissimo ha segnato vabbè come no forse qua andrà 1-0 si giusto ha segnato Borini bravo ha segnato Boyan Kerkis esatto gol di mezzo c'ho proprio mi ricordo i gol il terzo non me lo ricordo tu c'erai chiedi si la mela no no mi sono 3-0 per me 3-0 il terzo il terzo che lo fa tra un po' vedo un indizio ma è un giocatore che poi è sparito no ti darò un indizio e ti farà capire non è Osvaldo ha detto Juan Borini 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 ci manca il quarto è un quarto l'hai già detto ah Borini 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 mi stupite il gol quello che rientra e tira di testo non mi ricordo l'altro l'arbitro mi stupite con l'arbitro io ce l'ho se vuoi 11-12 si vediamo se mi fa impazzire con l'arbitro l'arbitro che io non conosco assolutamente no come mai sentito ma davvero mai sentito no dai ma io li rimuovo gli arbitri quindi sezione eh non c'è scritto fammi vedere aspetta no io non lo conosco cioè poi magari lo vedo ma come non lo conosci non è stato un grande arbitro con Salves che romani in testato la fanno grandi arbitri ma cioè comunque è noto ah vabbè si si certo come no come no secondo me lo conosci sezione Aia di se vuoi te la dico di Chiavari si secondo me lo conosci si si ma è noto si no certo io che non collego le facce è un arbitro ma è un arbitro di di Chiavari di Chiavari se vuoi sapere è alto 188 cm è nato il vittuaggio fatto anche credo della te no quello era confondo con Bergonzi in realtà De Marco bravo proprio De Marco vabbè mica starvitro no però madonna cioè ha fatto ho fatto tante tante per tante sì sì no no è vero poi ho guardato io non collego mai i nomi alle facce ecco questo possiamo esatto vabbè ragazzi un chiffi non nella versione murignana un chiffi di oggi c'è una grande partite ogni tanto proprio esattamente tagliavento rocchi io lo ricordo come opinionista forse poi è stato forse che devo ci avessi lavorato a dire tu vabbè ragazzi io farei andare a dormire a Dragon Salus perché lo vedo che tra un po' sbatte sui pulsanti e comincerà a dare incodatore random possiamo dire una cosa seria certo vai sono rimasti in tantissimi fino a luna secondo me è il più grande attestato di stima eccola qua è merito suo di pasto no merito di tutti nel finale nel finale ci ha trainato però pazzesco le disegnazioni di trevisani ci fanno volare olivares 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 batte anche per me perché io olivares legle e de patria li collego a delle facce sulle figurine il pedone per me non esiste non è una persona sono di bari il pedone è stato un buon mediano insomma invitiamo inviteremo olivares un giorno molto meno alcaglia è un po' incredibile battuta solo da olivares e da bilica all'ancora bilica per me è inarrivabile però un giorno facciamo le altre figheira rintianto figheira la chiameremo così però io e Ricky abbiamo promesso che saremmo andati via però l'hai fatto per noi c'era un sì è bella figheira bella figheira non lo prendo di castagna mai vai via andatevene tutti Ricky grazie mille grazie ragazzi pastor grazie mille grazie mille anche a Dragon Sales noi ci vediamo lunedì prossimo e niente buon derby a tutti buona partita a tutti ci siamo siamo in mezzo dai due derby siamo in mezzo dai due derby mamma mia pazzesco incrociamo i flussi come Ghostbusters ciao a tutti ciao a tutti